agito in qualche in qualche caso la registrazione sì ok qualche caso liberamente cioè che abbia agito in un certo senso potendo fare altrimenti in questo caso non c'è nessuna possibilità di fare altrimenti il concetto classico di libertà del dell'ambito filosofico analitico perché è qualcosa che è totalmente costruito da chi ha prodotto quel testo il personaggio oggetto di falsificazione cospitativa in forma di defect non può fare altrimenti non è quindi credibile una diciamo idea che quel personaggio e quel video possa avere un valore documentale è davvero così noi abbiamo pensato che in realtà le cose stanno in un altro modo e che vittenstein ci aiuta a capire come quello che dovrebbe essere uno scetticismo epistemologico che anche sistemico dal punto di vista della descrizione vittensteiniana delle forme di vita e della diciamo dell'idea della della certezza cognitiva che deriva da alcune evidenze percettive sia sostanzialmente rimesso in discussione dal punto di vista razionale con i fake ma non lo sia per quanto riguarda esattamente l'abitudine che noi abbiamo a credere in qualche modo in quel quel cosa che c'è nel video posso che in circostanze normali quel che noi vediamo potrebbe essere accaduto in circostanze normali gli spettatori fruitori di un fake sono ancora indotti a credere epistemicamente che la rappresentazione di quel reale di quello ipotetico è stato è vera anche quando è di fatto quell'audiovisivo è generato da algoritmi fondamentalmente vediamo un caso abbastanza interessante di fake che poi è svelato che è quello del video fake di obama creato già nel 2018 quindi questo è già un primo caso che però ha fatto molto di scuola faccio partire non sentiamo l'audio però non si sente l'audio non si sente l'audio non si sente l'audio non si sente l'audio vi dico io cosa accade posso andare un po più avanti ecco ecco vi dico io cosa accade rapidissimamente quando vedete che entra in quadro gioco tampil che parla per la voce che imita la voce di obama che riproduce la voce di obama in realtà lui ci svela che questa intervista è un fake questa intervista è un setting assolutamente credibile reale sostanzialmente una circostanza normale in cui pil fa dire ad obama attraverso una serie di affermazioni francamente incredibili lui stesso in titolo a questo suo video non credereste mai che obama possa aver detto queste cose tra cui l'ultima l'ultima cosa che obama dice prima che pig sveli che si tratta di un tipo fake è questa affermazione president trump is a total and complete complete dipshit che chiaramente è un'affermazione abbastanza inappropriata o inverosimile o in qualche modo incredibile sulla bocca di obama pubblico ma che qualcuno potrebbe credere che sia quello che lui pensa per esempio allora diciamo il problema qual è in questo caso il problema è che cospitativamente l'effetto che deriva dal fatto di avere usato questo video è che la modalità in cui ci si pone per fruirlo è quella del non poter non essere vero inizialmente che soltanto in realtà coloro che detengono il sapere in grado di identificare le tracce della falsificazione potrebbero distruggere questa credenza il caso successivo invece è un caso diverso perché è un caso di fake ironico è un caso che noi avevamo ricondotto alla dimensione di un meme questo è un caso molto particolare perché da questo da questo testo ironico emerge un qualcosa che è un cambio di isotopia un inatteso atteso visto che non c'è l'audio antonio lo so che tanto non c'è l'audio quindi poi lo puoi mandare perché tanto non mi parla addosso travi guardate il personaggio che sta a sinistra sullo schermo perché è quello il punto questa situazione è una situazione che sembra normale e che a un certo punto diventa qualcosa di diverso sostanzialmente c'è una variazione di isotopia e quel signore che vedete sulla sinistra del teleschermo piomba nell'inatteso diciamo piomba nell'inatteso ma noi ci accorgiamo che a questo punto questo testo che in realtà è prodotto attraverso un montaggio questi sono due testi sono le due isotopie dei due testi ecco questo cretino che adesso annuisce e poi farà ecco ecco come vedete questo testo autosvera la propria natura di fake ed è evidente sostanzialmente e le due isotopie che sono contenute in questo testo lo sono e si svelano perché a un certo punto l'una si 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 trasforma nell'altra e questo testo che originariamente poteva sembrare vero poi diventa qualcosa che non sembra vero si autodenuncia svolge diciamo una un ruolo mh auto ironico nella misura in cui eh mette in luce come ci sono due isotopie inconciliabili quella della diciamo dell'ambiente della presidenza della repubblica austero e quella di un'esotopia altra del movimento di qualcuno che 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 lo che lo squalifica quell'ambiente che lo rende quasi un ambiente da discoteca e quindi l'esito ironico del posteriore del testo è il riconoscimento di un inatteso che in parte è l'atteso è la rottura delle regole cerimoniali della presidenza della repubblica eh che però può essere criticata attraverso questo movimento paradis paradossale ironico in questo caso non c'è chiaramente cospirazione diciamo non c'è cospirazione vera mh perché i fichi ironici rappresentano solo o una cospirazione parziale perché sono ingannevoli eh non sono ingannevoli senza senza però non produrre senza lasciare il fatto che producono dei falsi e sovvertono il senso attraverso una falsità che non inganna eh perché a seconda le attese circa la sua imprevedibilità questo è l'aspetto interessante di questa forma di di fake ironico sostanzialmente che però che cosa fa non indebolisce ma semmai aumenta la sensazione la perdita del valore di non falsità della immagine audiovisiva a favore dell'affermazione di un sempre opinabile falsabile che sembra un tratto caratterizzante di questa mh diciamo deriva delle culture digitali e lascio la parola a invece al nostalgico Paolo ecco adesso invece entriamo nella parte finale della nostra relazione e abbiamo deciso di concentrarci su quello che ci sembra veramente un caso di di grandissimo interesse chiedere intanto a Riccardo di mandarlo mandarlo in play ehm stiamo parlando quindi di Deep Nostalgia Deep Nostalgia è un servizio accessibile online basato su intelligenza artificiale realizzato da un'azienda che si chiama MyHeritage e come potete immaginare il business di questa azienda ha a che fare con l'Heritage in particolare con l'analisi del DNA eh dei soggetti eh il servizio che viene offerto è quello di aiutare le persone a scoprire le origini etniche le proprie origini eh aiutandoli potenzialmente a entrare in contatto con componenti sconosciuti della loro famiglia che cosa ha fatto MyHeritage ha lanciato questo servizio che ha avuto un enorme impatto in termini di numero di utenti e di ehm interesse generato nell'opinione pubblica parliamo di oltre 26 milioni di animazioni in cosa consiste? È un'applicazione molto avanzata di Deep Learning che consente di generare una sequenza video partendo da un'immagine sorgente di tipo statico cioè da una fotografia in particolare l'uso più comune che viene fatto dell'app è quello di caricare online con un semplice upload delle foto dei propri cari eh dei propri cari che non ci sono più eh l'effetto che potete vedere quindi è un effetto davvero molto particolare perché il movimento leggero del volto di questa donna ha origine da quella che potremmo definire a tutti gli effetti ripartendo dalla distinzione sui modi di dal lavoro di eco sui modi di produzione segni che a tutti gli effetti come una traccia la fotografia effettivamente questa persona c'era molti anni fa davanti all'obiettivo questa immagine in bianco e nero l'esito finale invece è qualcosa di completamente diverso perché è un filmato privo di audio e privo di audio per un motivo la società cerca di limitare in questo modo l'utilizzo di volti celebri quindi non di persone ehm anonime ma di volti famosi con audio potrebbe generare appunto deep fake come quello che abbiamo visto ehm con l'esempio di di Obama e di Jordan Peele. Certamente l'effetto manipolatorio per quanto sofisticato rimane percepibile si coglie sin da subito l'assenza di circostanze normali siamo pur sempre davanti a un a uno schermo stiamo offrendo di un servizio online tuttavia osservando i volti in movimento e tornando al riferimento che ci sembra obbligato al lavoro di Roland Barthes è impossibile non ripensare alle riflessioni di Barthes sul noema fotografico l'efficacia dolorosa dell'immagine fotografica nel porre in rilievo ciò che è stato e non è più ma in questo caso effettivamente noi assistiamo a una simulazione della possibilità di riportare in vita qualcosa che c'era e non c'è più quindi con ehm deep nostalgia assistiamo alla manifestazione di un poter far sembrare vero che senza dubbio consegue l'effetto di far emergere un'emozione come appunto quella della nostalgia nostalgia che tornando al lavoro di Gremassa sulla semiotica delle passioni ricordiamo essere uno stato patemico l'anguore melanconia che ne presuppone un altro il rimpianto rimpianto per l'allontanamento la disgiunzione da un oggetto di valore ecco qui è interessante notare che diversamente dalle forme di nostalgia che consideriamo consolidate e normali qui la nostalgia all'esito di un processo di manipolazione di cui il fruitore al contempo consapevole sono io che scelgo di caricare l'immagine di un mio archivio personale e in parte artefice quindi l'utente è compartecipe della parziale non verità del materiale visivo diciamo parziale perché eh il processo di generazione di questo fake nel senso di un'immagine che è solo parzialmente vera prende pur sempre forma da un'immagine documentale quindi da un'immagine vera certo il sembrar vero ma dovreste avvicinarvi alla conclusione ci sembra importante richiamare qui le considerazioni di Bettettini già Franco Bettettini sulla simulazione nel 91 quindi molti anni fa 30 anni fa Bettettini mette l'accento non solo sulla ambiguità del termine simulazione ma anche su quello che sarebbe stato l'impatto della computer graphics nel generare forme di falsazione evoluta delle immagini ci sembra quindi che Deep Nostalgia marchi un po' un passo eh ulteriore in questo processo di ehm eh come dire ulteriore evoluzione delle logiche della della simulazione in particolare ci sembra importante eh richiamare il tema dell'enunciazione degli sviluppi più recenti in particolare nell'ambito della semiotica post strutturalista sul versante dell'enunciazione si parla da tempo di superare eh dicotomie radicate come enunciatore enunciatario quando si passa dall'analisi di testi consolidati narrativi a forme diverse ehm e quindi in particolare mi riferisco al lavoro recente di Paolucci o di Ruggero Eugeni che in effetti mettono a mettono al centro della loro riflessione il concetto di dispositivo concetto di dispositivo ci sembra particolarmente appropriato per affrontare la complessità di questo tipo di ehm di fenomeni in particolare concetto di dispositivo che a nostro avviso andrebbe eh riportati innanzitutto al eh l'elaborazione teorica di Bruno Latour che lo definisce come un concatenamento di attanti etereogeni in cui le competenze e le performanze sono distribuite in un processo di produzione del senso caratterizzato da deleghe e da mediazioni beh qui lo vediamo perché parlare di enunciatore di deep nostalgia davvero non avrebbe senso qui abbiamo un concatenamento di attanti umani e non umani il ruolo dell'algoritmo è fondamentale ma è importante ancora anche il ruolo dell'essere umano ehm con riferimento in particolare vado veramente alla chiusura eh della riflessione sul concetto di dispositivo vorrei richiamare tre accezioni del concetto dispositivo dispositivo come device cioè come apparecchio hardware o software dispositivo come assemblaggio è una accezione più ampia che implica anche le modalità di fruizione del dispositivo in particolare in questo caso il fatto che deep nostalgia ha avuto un enorme successo perché consente alle persone con un gesto di condividere sulle reti social ad esempio su facebook il risultato dell'animazione e infine il terzo è quello che non interessa di più l'apparato l'apparato è una nozione di dispositivo molto più ampia che chiaramente rimanda al lavoro seminale di di fucco e quindi all'interazione dei saperi e poteri e dei poteri sui quali si regge l'efficacia di queste forme di manipolazione ehm quindi provando ad abbozzare una conclusione con deep nostalgia assistiamo all'emerge di un'esperienza mediale del tutto diversa da forme ormai note e non per questo non pericolose lo so ne come il deep fake di obama piuttosto che i fake ironici se in quei casi che abbiamo visto prima l'efficacia della della manipolazione si misura nei termini della portata collettiva della falsificazione infatti dominano l'ironia o la protesta con deep nostalgia la dimensione pubblica della contraffazione lascia il posto a un'esperienza più intima più intima ma fino a un certo punto e chiudo perché la malinconia non rimane nella maggior parte dei casi strettamente individuale e personale ma viene condivisa nella cerchia magari ristretta dei propri contatti utilizzando appunto le piattaforme social e generando a sua volta una grande quantità di commenti e interazioni sulla verosimiglianza dell'artificio e sulla sua presa emotiva abbiamo finito grazie grazie molte ci avviciniamo allora adesso alla seconda relazione intanto che avvengono i cambi di presentazione presento il nuovo relatore giulio lughi dalla narrazione lo storytelling la semplificazione complessa del digitale c'è giulio lughi problema che non si vede effetti non si vede io non ci sia io l'ho contattato un'ora fa non lo vedo federico stavi dicendo io l'ho contattato un'ora fa perché sono il suo vecchio studente mi ha detto che lui non ci potrà essere che però aveva avvisato gli organizzatori quindi non so se poi la il messaggio è passato nelle varie cattive evidentemente io non sapevo nulla evidentemente neanche neanche a me allora però forse conviene a questo punto fare chiedo a francisco se è sensato di fare dieci minuti di pausa perché altrimenti io direi no io suggerirei di continuare e di guadagnare tempo per il dibattito d'accordo è semplicemente che magari chi voleva sentire una relazione ma forse sì certo questo è un po sfasa ma mi pare che insomma diciamo no certo ci conviene poi prendere tanti 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 relatori forse conviene andare avanti allora spero che il prossimo relatore ci sia Matteo Adamoli o Adamoli ci sono buon pomeriggio a tutti Adamoli Adamoli perfetto la competenza immaginativa per la narrazione di nuovi mondi possibili nell'ecosistema digitale condivido lo schermo così mi dite se si riesce a vedere benissimo lo allargo si vede bene giusto? sì perfetto perfetto allora vado allora buon pomeriggio il mio intervento il mio contributo cerca di dal punto di vista pedagogico sono un pedagogista ok cercare di andare ad analizzare come evolve la narrazione all'interno dell'ecosistema digitale in particolare rispetto a due aspetti l'aspetto del design quindi della progettazione dell'ecosistema digitale degli ambienti che lo abitano e l'aspetto poi educativo legato alla competenza quindi farò un breve scursus di quali sono le caratteristiche dominanti dell'ecosistema digitale andremo a vedere come cambia il dispositivo narrativo parlando nel passaggio dalla narrazione allo storytelling per poi andare a fare un affondo sulla competenza ecosistema digitale allora qui le definizioni sono molte forse quella che più diciamo così è peculiare rispetto all'intervento che sto facendo è quella dell'ibridazione dell'ibridazione tra fisico e digitale in una complessità che è costituito da un intreccio di processi economici sociali, politici, tecnologici complessi che sono tra loro ambivalenti e che stanno grazie alla rivoluzione digitale o a causa della rivoluzione digitale qui dipende dal punto di vista da cui l'analizziamo stanno diventando sempre più intensi e diffusi dominante in questo momento qua è il costrutto teorico dell'infosfera utilizzato per la prima volta da Toffler nel 1980 e poi represo recentemente da Floridi che lo definisce come un ecosistema dominante da un flusso continuo di informazione in cui sia le istituzioni sociali che i singoli incorporano la logica dei media questa caratteristica di incorporazione ci permette di vedere l'ecosistema dei media barra piattaforme attraverso il costrutto di quello che Van Dijk chiama la platform society cioè la trasformazione digitale che caratterizza la società contemporanea si basa sul ruolo sempre più predominante che hanno assunto le piattaforme nel quale tutti noi abitiamo se parliamo di ambienti e nel quale tutti noi usufruiamo i servizi le imprese proprietari infatti che qua in questa slide vedete elencate offrono servizi digitali di uso comune e l'ipotesi dell'esistenza di una platform society è intesa proprio come un ecosistema di infrastrutture e piattaforme interconnesse tra loro che sono governate da processi che modellano le pratiche sociali della società in cui viviamo qui vedete alcune aziende alcune imprese al centro di questa slide dominanti ne cito alcune Amazon, Facebook, Microsoft, Apple Alphabet, Google e le vedete anche suddivise nelle varie aree di intervento in particolare in questa slide qua vengono elencate l'area dei trasporti del benessere, delle news e forse l'ambito su cui poi io mi soffermerò è più l'ambito education che durante questa pandemia ha avuto un'accelerazione molto forte qualcuno parla sul piano economico di capitalismo digitale citando Lion di una società della governabilità algoritmica è chiaro che potremmo analizzarla dal punto di vista politico potremmo analizzarla dal punto di vista economico quello che mi interessa andare a vedere adesso sono come cambiano le pratiche sociali all'interno della platform society e in particolare rispetto al processo di mediatizzazione cioè l'ecosistema della platform society presume a sua volta un processo di modellamento reciproco tra i meccanismi tecnologici quindi i meccanismi di design di progettazione delle piattaforme stesse e delle interazioni sociali che gli utenti esercitano su di esse noi sappiamo che facendo molta sintesi i funzionamenti tecnologici delle piattaforme sono tre sono la datificazione la personalizzazione di questi dati e la mercificazione degli stessi andando ad approfondire il primo che è la datificazione la datificazione si basa su cosa? e qua mi vado al secondo passaggio si basa su la possibilità di autonarrazione all'interno degli ecosistemi cosa significa questo? vado a alcuni spunti rispetto alla narrazione e vedo il passaggio dalla narrazione allo storytelling quando parliamo di narrazione qui cito Barth già citato in precedenza parliamo di cosa? parliamo di una categoria della conoscenza che utilizziamo per comprendere e ordinare il mondo quindi parliamo di un qualcosa che esiste dalla notte dei tempi che esiste a livello culturale a livello sociale noi esseri umani noi esseri umani ci distinguiamo dal resto degli esseri viventi per la nostra tendenza vivere in una realtà duale quindi da una parte la realtà oggettiva fisica dall'altra parte una realtà immaginaria fatta di finzioni narrative se questo modello se questo dispositivo innato dell'essere umano lo vediamo all'interno dell'ecosistema digitale c'è un passaggio da quello che viene definita narrazione a quello che viene chiamato storytelling anche qui le definizioni sono molte se vogliamo tradurlo con una locuzione italiana storytelling lo potremmo tradurre come arte del narrare ad altri qualsiasi cosa lo troviamo nella politica lo troviamo nel marketing nell'advertising nello sport lo troviamo anche a livello educativo è chiaro che quando parliamo di storytelling parliamo di metodologia quindi parliamo di un metodo che ha delle tecniche e che come dicevo precedentemente si basano su una tendenza nell'ecosistema digitale a quella che viene chiamata l'iper narrazione sociale cioè all'interno degli ecosistemi dell'ecosistema delle piattaforme domina una spinta all'iper narrazione in cui il soggetto si trasforma da cittadino a utente a user per usare il termine inglese che cerca di soddisfare il proprio desiderio di approvazione sociale per citare Anna alimenta lo scenario tecnocratico e omologante basato sulla caratteristica delle piattaforme stesse e alimenta un modello di controllo di sorveglianza nella logica del consumo immediato a fini commerciali per citare la Zuboff è chiaro quindi che l'iper narrazione sociale è dominata da un monomito narrativo all'interno del mondo dell'infosfera in cui domina una dipendenza da narrazione compulsiva a causa del rinforzo positivo intermittente e dal desiderio di approvazione sociale allora riprendendo Brunner e riprendendo la sua intuizione del pensiero narrativo pensando quindi al narrare come pratica sociale e culturale che stabilizza e rinnova la vita sociale la domanda che mi sono fatto che ci stiamo facendo è questa la diffusione delle storie all'interno dell'ecosistema delle piattaforme fa sì che nella storia di media ogni nuovo mezzo di comunicazione ha sempre dato vita a una nuova forma di narrazione però è chiaro che se la narrazione all'interno dell'ecosistema ha quella spinta che citavo prima il rischio qual è? il rischio è di mettere in di mettere in crisi la funzionalità stessa della narrazione e quindi la pervasività delle storie del digitale ci ha portato statistiche aggiornate a vivere all'interno di questa tendenza lì per narrazione otto ore della nostra giornata quindi otto ore delle 24 in cui noi viviamo che vanno ad alimentare cosa vanno ad alimentare un mondo narrativo in cui anche le verità diventano materia di narrazione in cui citandolo russo la legittimazione di inventare storie al di là della necessità di senso ok e in cui il criterio non è l'attendibilità della narrazione stessa ma la sua efficacia McNeil dice che l'utente inteso da persona a user nell'ecosistema digitale cerca conferme cerca storie che già conosce già e storie in cui lui crede quindi siamo all'interno di un dispositivo narrativo che viene definito regime di verità in cui dominano dei frame narrativi che puntano all'uniformità è chiaro che qua stiamo parlando dell'epoca delle post verità in cui si consolidano convinzioni racconti che non trovano argini ma cercano conferme e sempre per citare lo russo stiamo stiamo dentro una logica narrativa della post verità che procede per esasperazioni continue questo dato va a caratterizzare anche il funzionamento come dicevo prima delle piattaforme che si basa su un design basato sulle bolle le bolle narrative in cui ogni individuo tende a costruire attorno a se stesso un universo di significati con il quale definire la realtà oggettiva dei fatti le echo chamber sono state ampiamente giustificate dal punto di vista scientifico dominano frame narrativi consolidati che puntano al consenso quindi il dispositivo cosa propone cosa promuove promuove una caratteristica fondante la narrazione che è l'immersività è come se si trovassimo immersi in un flusso narrativo uniformante e costante e questo dipende dalla multimedialità delle piattaforme dipende da quella che Gottschall utilizzando la metafora dei pesci chiamiamo partner narrativo regolare e assolutamente ripetitivo in cui la sensazione è quella di essere costantemente immersi attraverso i vari canali comunicativi e i vari linguaggi all'interno di un continuum di passioni di emozioni che trovano occasione di espressione soprattutto in una logica di polarizzazione allora se questo è se questo è il piano dell'analisi andiamo a vedere qual è un possibile percorso rispetto a la lettura di questo contesto narrativo e l'esposizione di una possibile diagnosi allora i cambiamenti nell'ambiente mediale o negli ambienti mediali per essere più corretti stanno modificando la nostra comprensione delle competenze e delle competenze che richiedono nuovi modi di pensare nuovi modi di interpretare la realtà e l'interazione con l'infosfera quindi parliamo di competenza narrativa e recuperando cosa recuperando la logica del funzionamento del design delle piattaforme e recuperando l'aspetto educativo qui recupero Foucault intendendo l'ecosistema digitale come un dispositivo riflessivo di conoscenza del sé e recupero anche Brunner pensando all'ecosistema digitale come ambienti in cui sono presenti strumenti di produzione e di negoziazione di significati condivisi all'interno della società e parlando di competenza narrativa in particolare va messa va messo sotto il riflettore la competenza immaginativa è chiaro che la competenza narrativa necessaria dal punto di vista pedagogico per essere dei cittadini consapevoli parte da cosa parte da conoscere i linguaggi i codici in cui siamo immersi per recuperare l'idea di un'intelligenza narrativa come dice ricorre in grado di sviluppare l'immaginazione non però come mero strumento di intrattenimento o di fuga dal reale ma come una competenza che abbia una funzione ermeneutica creativa e epistemologica al di là della proposta tecnoculturale in atto e quindi arrivo alla fine arrivo alla fine di questo di questa breve sintesi in una logica di media education e quindi pensando alla competenza immaginativa come qualcosa che ha a che fare col saper guardare quel che si annuncia al di là di quello che c'è quindi andare ad apprendere quelli che vengono definiti i nuovi alfabeti i propri linguaggi ce le grammatiche le sintassi all'interno di una logica di media e digital literacy che ha a che fare con la competenza immaginativa all'interno di una logica di competenza digitale intendendo come competenza digitale cosa non solamente il mero utilizzo dello strumento quindi l'aspetto tecnico ma anche l'aspetto cognitivo quindi l'accedere selezionare valutare criticamente l'informazione e l'aspetto etico che ha a che fare con l'interesse per le tecnologie e la dimestichezza nel loro uso strategico prevedendo un utilizzo dello spirito critico e responsabile che serve per apprendere serve per lavorare e serve per partecipare da cittadini attivi e consapevoli alla società arrivo alla fine parlando di educazione alla narrazione quindi di un'educazione che abbia bisogno di comprendere il funzionamento della platform society di riconoscere il ruolo del design e quindi il ruolo della trans e interdisciplinarità dei saperi all'interno del funzionamento delle piattaforme stesse dell'imparare come si costruisce una narrazione come funziona di passare da una distrazione ricreativa alla conoscenza al sapere e da riprendersi questi luoghi di narrazione vi ringrazio spero di essere stato dentro il quarto d'ora perfetto grazie molto anche per il rispetto dei tempi intanto che al solito si toglie questa presentazione e compare la prossima annuncio la prossima relatrice che è Silvia Verdiani strati di narrazione la costruzione del significato nella multimedialità digitale grazie buongiorno a tutti adesso provo ecco ci siamo benissimo spero che vediate bene la presentazione benissimo allora appunto in questa mia relazione affronterò in particolare gli aspetti linguistici della comunicazione multimediale legata alla digitalizzazione della comunicazione e appunto proprio perché con la diffusione del web e in generale con l'evoluzione tecnologica negli ultimi decenni pian piano ha guadagnato terreno un nuovo modo di comunicare che si avvale con creatività di tutti i codici messi a disposizione dal mezzo di trasmissione quanto abbiamo visto appena nei precedenti interventi quindi in ambiente digitale la comunicazione ha preso una direzione che potremmo definire di ibridizzazione così come veniva sottolineato delle strategie di interazione sul piano diamesico assistiamo ad una sovrapposizione di sistemi iconici diversi in una prospettiva comunicativa che fa perno sulla dialogicità la dialogicità è infatti uno degli aspetti preminenti di questo tipo di comunicazione ora se la ricerca sul discorso in rete è stata ampiamente indagata negli ultimi decenni lo stesso non si può dire della sua dimensione cross-mediale secondo quanto scrivono hanno scritto Clem Stockel nel 2011 e Siva nel 2015 la relazione semantica esistente tra lingua e immagini nella comunicazione digitale rimane uno dei desiderata della ricerca di ambito linguistico naturalmente non mi faccio questo riferimento in modo schietto alla linguistica i tratti tipici di questa nuova modalità di interazione che si realizza attraverso conglomerati quelli che appunto possono essere considerati dei conglomerati di lingue e immagini e altri codici che non sono esclusivamente linguistici ma che afferiscono appunto a diversi ambiti di ricerca e appunto bisogna dire che la dimensione ibrida di questo linguaggio delle pratiche comunicative utilizzate in rete di per sé non è una novità come sappiamo ciò che invece entra così in modo sostanzialmente nuovo in questo tipo di comunicazione è il fatto che essa sia diventata la normale modalità di interazione per un numero sempre più ampio di utenti rendendo quindi necessaria una literacy mirata e riconosciuta anche istituzionalmente istituzionalmente per esempio esiste a livello di un'unione europea esiste una normativa che ormai presiede a questo a questi aspetti quindi come è stato osservato da tempo la peculiarità della dimensione comunicativa digitale è che essa non si avvale esclusivamente di strategie che alternano scritto parlato o che tendono a mescolarli ma sovrappone ad essi un'ampia gambe di scelte comunicative multimediali e multimodali questi sono i due aspetti multimediali ma anche multimodali che impongono delle logiche specifiche di trasmissione dei contenuti rendendo così inevitabile la revisione di concetti come quelli di testo immagine scrittura dialogicità sequenzialità della lettura se da un lato nell'interazione online la dimensione dialogica sembra emergere come vera protagonista dell'atto comunicativo dall'altro non si può fare a meno di notare che questa dialogicità si esprime in una modalità atipica incentrata sull'uso combinato di elementi iconici di varia natura e testi scritti quindi gli aspetti che emergono sono quelli della multimodalità l'abbiamo visto cioè il fatto che questa modalità dovuta all'uso di una specifica varietà testuale che si avvale di materiali multimediali e in qualche modo subisce l'influenza dell'ambiente in cui si realizza la conversazione quindi dei tempi di reazione dei parlanti del diverso valore che può assumere il contesto di produzione del messaggio anche il silenzio per esempio quindi la mancanza o ritardo di una risposta e il secondo aspetto è quello dell'interpestualità quindi nella versione digitale la scrittura si arricchisce di molti elementi eterogenei che hanno un peso determinante sul piano semantico insieme al messaggio verbale che in alcuni casi possono anche sostituire e non da ultimo anche l'intersemioticità cioè il fatto che ogni testo sembra ricostruito come un circuito chiuso in cui la decifrazione del senso dell'enunciato verbale è inarrivabile se si escludono gli elementi visuali e questo è evidente soprattutto dal momento che si tenta dal momento che appunto avviene spesso che i linguisti cercano di estrapolare il testo parlato o scritto dalle immagini quindi da questo punto di vista tende a essere carente la coesione quindi nella ricerca che ho condotto e pubblicato nel 2020 ho focalizzato l'attenzione proprio sui gruppi di attivisti di matrice politica in relazione ai flussi di migrazione inter-intracontinentali in sostanza ho lavorato a partire da testi pubblicati in rete da Amnesty Medici Senza Frontiere Emergency e un gruppo di tedeschi che si chiama Centrum for Politician United e tu in tutti questi casi appunto ci troviamo di fronte a progetti di comunicazione molto elaborati che sono caratterizzati da una forte ibridazione di queste diverse modalità in particolare se andiamo ad analizzare il corpus notiamo che la comunicazione politica online è articolata in modo decisamente complesso quindi dispone di un luogo dove viene la dichiarazione di intenti e la mobilitazione degli interessati che di solito è il sito internet ed è però inscindibile dal canale partecipativo veicolato dai social media ed è quanto tutti noi conosciamo ormai perfettamente e appunto questa situazione determina tipologie di testi diversi a volte sovrapposti che cerco di sintetizzare in questo schema sostanzialmente abbiamo quelli che ho definito testi digitali chiusi prodotti dalle diverse organizzazioni con la finalità di provocare il dibattito politico i testi digitali aperti prodotti dai partecipanti alla comunicazione con l'intento di appunto partecipare al dibattito e poi un'ultima tipologia che a me sembra particolarmente interessante che comprende i testi digitali chiusi e aperti nelle trasmissioni giornalistiche o satiriche dei mass media tradizionali e appunto un altro dato interessante è che quasi sempre ci troviamo di fronte a versioni parallele questo naturalmente per l'analisi linguistica è particolarmente utile ora analogamente a quanto abbiamo visto anche sul piano teorico possiamo dire che appunto l'universo teorico funzionale alla lettura di una situazione tanto complessa si configuri come un arcipelago di aree di aree scientifiche liminarie a volte sovrapposte e molto eterogenee si tratta di un territorio vasto che non è facile delimitare che anzi sembra espandersi in modo più capillare col passare del tempo sul piano teorico funzionale siamo di fronte alla reale difficoltà di individuare un approccio capace di descrivere adeguatamente il fenomeno della significazione legato all'uso multimodale del linguaggio in rete che sia in grado cioè di fornire un'interpretazione sia dell'aspetto linguistico che di quello visuale e più estesamente multimediale e multimodale quindi sintetizzando gli approcci di ricerca a cui ho fatto riferimento nelle mie ricerche abbiamo oltre agli ambiti di studio classici della linguistica le seguenti tendenze quindi la teoria dell'atticonico Bredecam 2010 l'analisi dell'intertestualità in particolare i testi di Hassler del 1997 del 2019 la teoria dei conflitti concettuali Prandi 2017 la linguistica multimodale Bateman 2017 Kluge Stöckle 2016 Pievitz 2014 Kress van Leeuwen 1998 l'ambito della Bild Linguistik da me introdotta in Italia come iconolinguistica Stöckl 2016 Siva 2015 Dickman Scheck 2011 e quello della testologia semiotica che fa riferimento agli scritti di Petofi del 1985 recentemente a quelli di Vita Colonna e Bor Guero Zuloaga del 2018 quindi come vedete una particolarità di questo tipo di ricerca è proprio che sia così estesa che si configuri veramente come una specie di archipelago di tendenze teoriche diversi appunto prima di prima dell'avvento della cultura digitale citare la realtà era un procedimento complesso molti elementi di cui questo tipo di intertestualità fa uso non erano disponibili in tempo reale non potevano essere richiamati estemporaneamente quindi questa operazione richiedeva abilità e tempo la particolarità della comunicazione attuale in ambito digitale è invece caratterizzata da una semplificazione da questo punto di vista quindi tutte le citazioni testuali anche grafiche fotografiche video audio hanno acquisito un ruolo molto importante e al tempo stesso sono facilmente disponibili potremmo parlare quindi di un processo di ibridizzazione che influisce anche sulle modalità di narrazione l'intertesto nelle sue molteplici forme è infatti un ricordo circolare come scriveva Barton nel 1975 che nella comunicazione online il parlante può citare e replicare all'infinito quindi nei casi negli esempi tratti dalle petizioni di Amnesty International la costruzione del significato nel messaggio verbale è fortemente condizionata appunto da elementi iconici in tutto questo si può notare per esempio in che modo la presenza di elementi visuali incidano sulla comprensione del messaggio verbale in che modo essa contribuisca alla costruzione di una catena anaforica all'interno appunto della comunicazione politica online come sia possibile monitorare gli effetti delle immagini chiave sulle scelte linguistiche e questo è particolarmente evidente analizzando le versioni semiparallele quindi in lingue diverse ecco come vedete questo è l'esempio su cui lavoreremo nei prossimi minuti è un'azione di Amnesty International incentrata sulla vendita dei detenuti in Libia un evento che era stato registrato nel 2017 in particolare vedremo di lavorare a partire dall'approccio teorico come dicevo prima di Petrofi quindi tratto dall'elaborazione testuale teorica di cui vedete ho presentato il modello fondamentale che io poi ho così adattato naturalmente alla comunicazione digitale multimodale digitale perché era nato per l'intertestualità cartacea diciamo quindi come vedete un modello o un insieme di modelli che contiene un complesso di relazioni reali o fittizie che è in grado di rappresentarlo appunto facendo ricorso a questi diversi strati di testo quindi un testo della lingua oggetto in forma scritta alfabetico auditivo e naturalmente a tutti questi strati è possibile aggiungere delle caratterizzazioni diverse legate appunto alla comunicazione multimodale un secondo modello che è molto utile è quello di Bateman che propone un approccio olistico di analisi dei materiali multimodali che consente di affrontare ogni situazione comunicativa e le materialità in esso coinvolti insieme al linguaggio quindi consente di agire sui singoli strati su quelle che Bateman definisce slices of material e consente di focalizzare l'attenzione sui singoli sistemi semici coinvolti nel modello i diversi artefacts corrispondono a programmatic semiotic modes e il processo di interpretazione tiene conto di tutte le operazioni cognitive e le dimensioni utili ad assolvere la catena ermeneutica dell'utente esso costituisce dunque un quadro di insieme capace di descrivere la dimensione multimodale della comunicazione nel suo complesso ma anche nella peculiarità dei suoi elementi così come avveniva con il modello di Petofi anche se forse in modo più focalizzato sulla sulla comunicazione cartacea appunto l'esempio che vedremo è quello Urgent Stop the Selling and Detention of Refugees and Migrants in Libia un'azione di Amnesty International in particolare un'azione legata alla violazione dei diritti umani in Libia nell'estate del 2017 appunto a partire dalla quale era stato realizzato un reportage giornalistico della CNN e appunto le immagini selezionate come copertine dalle azioni di Amnesty sono state realizzate a partire dal materiale documentario di questo o perlomeno si sono ispirate al materiale documentario di questo reportage della CNN quindi l'introduzione delle immagini richiama un contesto noto un evento a cui la stampa ha dato rilievo a livello internazionale e le immagini chiave diventano in questo modo le immagini simbolo di questa azione questo è il testo che non sto a leggere ma come vedete porta evidenziate alcune caratteristiche linguistiche in sostanza quello che è particolarmente interessante purtroppo qui non lo vedete benissimo diciamo si intravede vagamente questa scritta in chiaro grigio chiaro sul muro di fondo ed è appunto questa iscrizione Tu remember Spartacus un'iscrizione in caratteri chiari sul muro grigio che fa da sfondo all'immagine e funge per gli utenti della pagina di Amnesty da anticipazione sia l'immagine che la frase evocano deliberatamente il video realizzato nel novembre del 2017 della CNN e diffuso dalle emittenti internazionali nei giorni successivi essa non serve però unicamente alla ricostruzione multimodiale del contesto alla costruzione di un supporto inferenziale corrispondente al profilo culturale medio di un lettore ma anticipa la struttura testuale e locutiva del testo che segue e ne definisce con precisione le caratteristiche linguistico funzionali ed è proprio quest'ultimo aspetto quello che ci interessa maggiormente quindi la scritta Tu remember Spartacus è un pertesto secondo la definizione di Manco ma al tempo stesso è il primo punto dislocato sulla fotografia di una lista di verbi all'infinito di valore finale introdotti dall'imperativo come abbiamo visto prima nella trascrizione del testo e costituisce appunto il nucleo illocutivo della petizione presente qui alla fine della pagina e non a caso si trova proprio prima del pulsante sent email che si trova a questo livello quindi ricostruendo il testo verbale della petizione in inglese notiamo che risulta strutturato come ho evidenziato qua a destra quindi c'è questa prima anticipazione che poi viene replicata nella lista di infiniti a seguire quindi analizzando la petizione di questa campagna emerge chiaramente il ruolo attivo svolto dall'immagine sul piano linguistico funzionale infatti a partire dal medesimo testo scritto della petizione nella versione inglese tedesca e spagnola è evidente che il per testo turimeba spatacus determina la dislocazione di un elemento funzionale sul piano linguistico sul piano pragmatico il testo scritto della petizione assume il valore marcato di una catafora l'iscrizione turimeba spartacus è semanticamente ambigua si tratta infatti di un infinito finale che assume qui contemporaneamente un valore fattuale modale inoltre esso si configura come un conflitto concettuale il cui significato è comprensibile solo unitamente all'immagine su cui campeggia che come dicevo prima è un'immagine che costituisce una sorta di citazione dal reportage della CNN e appunto lo vediamo purtroppo non c'è il tempo per far vedere parte di questo di questo reportage ma era identificato insomma è ricostruibile a partire da questa pagina Silvia dovresti avvicinarti alla conclusione allora dico solo più alcune parole come vedete questo è un modello ed è il modello che io ho cercato di formulare a partire appunto dalla testologia semiotica di Petofi integrando quelle caratteristiche testuali che sono tipiche della comunicazione digitale online quindi in questo caso identifichiamo in generale nell'insieme appunto il conflitto concettuale le due metafore una legata alla figura di Spartacus e l'altra invece alla pagina di Amnesty e poi all'interno di tutti questi di questi elementi ho evidenziato le diverse tipologie di testi stratificati sovrapposti l'uno all'altro che determinano appunto una così diverso utilizzo funzionale anche degli aspetti linguistici e con questo io vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie molte in attesa del cambio di relatore introduco il prossimo relatore che è Federico Biggio che ci presenta una cioè Federico Biggio sì perfetto che presenta una relazione dal titolo snidare il complotto la realtà aumentata come tattica di rivelazione grazie allora vedete lo schermo lo confermate lo vedete anche così giusto sì allora confermiamo confermiamo il il mio intervento è un caso di studio un'analisi di un caso di studio quasi archeologico perché mi occuperò di un gioco in realtà aumentata che si chiama Ingress uno un prodotto l'anticipatore di Pokémon Go quello che poi ha portato la realtà aumentata al mainstream è quasi archeologico perché parliamo del 2013 a novembre del 2013 è stato scusate a novembre del 2012 è stata lanciato è stato lanciato Ingress e connesso una campagna di di marketing che è una narrazione cospirazionista e interattiva che è durata poi un anno questa qui emerge già il primo tema ovvero un gioco che usa la tecnologia della realtà aumentata che si chiama Augmented Reality Games e poi è stato questo il nome che si è dato a questa tipologia di prodotti in cui appunto non c'è una complementarietà fra il contenuto virtuale e il mondo fisico mondo e reale mondo aumentato sono in qualche modo slegati io mi occuperò di alcuni aspetti semiotici rilevabili in alcuni testi di questa narrazione che ha accompagnato il lancio di Ingress come gioco i testi sono quelli della narrazione transmediale e non quelli inerenti strettamente all'esperienza di gioco ad esempio l'interfaccia scusate faccio partire il timer che mi sono dimenticato quindi cercherò di illustrare una struttura di opposizione ideologica possiamo dire la cui fondamentale è quella fra empowerment e alienazione che sono diciamo prototipiche dell'ideologia dei media digitali in generale e si può riassumere la differenza fra le tecnologie digitali portano un vantaggio evolutivo di tipo estetico fenomenologico all'esperienza dell'utente oppure se la protesizzazione dell'utente effettivamente può portare a un disagio la questione è molto banale se non viene concepita nei termini diciamo ad esempio della filosofia estetica dei media e della tecnica che pensa in una prospettiva antropocentrica all'evoluzione naturale dell'uomo nello sviluppo di protesi tecnologiche se vista in questo senso la questione diventa meno banale e la questione della funzionalità e della dannosità del sistema tecnologico ricade ricade sulla dimensione sociale in questo senso che c'entra il complotto o la cospirazione perché nella narrazione trasmediale di ingress esattamente il gota della tecnologia la silicon valley l'industria dei media in generale che seguendo quello che possiamo attribuire a un'ideologia dell'alienazione sarebbe in grado di influenzare elementi dei consumatori attraverso i prodotti e in questo caso abbiamo proprio un prodotto che è di realtà aumentata ingress non è il primo che accomuna il tema della realtà aumentata con un'ideologia negativa abbiamo abbiamo ancora prima young blood ma con l'expanded cinema ma non abbiamo tempo di addendrarci in questo altro tema per iniziare ad allestire quali sono le figure della narrazione trasmediale di ingress vorrei introdurre la figura dell'hacker e del whistleblower ovvero di quelle quelle figure che dalla diffusione di internet delle mitologie dei media digitali hanno iniziato a essere oggetto di una mitologizzazione appunto in un articolo dedicato proprio alla semiotica del complotto Mattia Tibò che si occupa di internet e di web mettendoli in contrapposizione come internet intendendo l'internet come la periferia in cui nascono le narrazioni le narrazioni subculturali e quindi anche cospirazioniste parla della figura dell'hacker attribuiendogli un significato mitologico e prendendo come esempio proprio Julian Assange di Wikileaks che è un hacker particolare perché è conosciuto per le rivelazioni che ha fatto attraverso le rivelazioni di cospirazioni di operazioni eticamente scorrette nell'ambiente del web e l'ha fatto attraverso strategie a volte illecite a volte lecite quindi è comunque una questione controversa e come vedremo si è la stessa operazione che fa il l'entità protagonista che non si vede mai della narrazione trasmediale di Ingress in qualche modo sì in questa slide avevo messo anche l'immagine di Snowden di Edora Snowden quello che poi ha denunciato nel 2013 i datagate dell'NSA qui su un'altra frontiera andiamo verso la questione della simulation hypothesis del fatto che la realtà aumentata come tecnologia è percepita inizia a essere percepita nell'immaginario comune come una tecnologia rappresentativa dell'ubiquitous computing e che quindi funziona attraverso i dati della geolocalizzazione e della fotocamera dei degli utenti questo porta a una questo nel caso di Ingress ha portato a una paura del controllo delle menti attraverso i mass media e che si è sviluppata come un controllo elementi attraverso l'applicazione stessa ecco vado un po' veloce perché voglio arrivare alla presentazione del caso di studio vero e proprio allora brevemente come funziona Ingress è un alternate reality games che funziona nello stesso modo di Pokemon Go in cui i giocatori dotati di un'applicazione sullo smartphone devono muoversi per la città alla ricerca di quelli che nel gioco si chiamano portali dei punti di interesse nei quali è concentrata una una sorta di materia che nella narrazione si chiama exotic matter e la conquista di questi portali l'avvicinamento a questa materia produce delle conseguenze e il gioco si sviluppa in questo modo quanti più portali i giocatori riescono a conquistare più si più le due squadre possono vincere in questo si richiama molto alle passeggiate da daiste e alle deambulazioni surrealiste di cui parla Careri nel suo nel suo walkscape la narrazione cospirazionista di Neantic di Ingress parte dalla parte dalla sua casa produttrice c'è la Niantic che ovvero è la produttrice anche di Pokémon Go una start-up fondata nel 2010 col nome di Keil è acquistata poi da Google e specializzata nello sviluppo di applicazioni mobile che sfruttano la geolocalizzazione e l'ubiquitous computing per far interagire l'utente con lo spazio della città ecco è il da questo la la narrazione di Ingress la narrazione trasmediale di Ingress si si sviluppa proprio a partire da una un'invenzione si pensa su allora su questo la narrazione di Ingress è parallela come abbiamo detto al gioco vero e proprio è un portale è un portale come quello che vedete sulla parte destra della della diapositiva in cui giornalmente vengono caricati dei documenti dei leak che rimandano alla 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 Niantic proprio ovvero alla casa produttrice del gioco di Ingress la Niantic proprio perché si dice non si dice effettivamente così proprio perché prima si aveva aveva prodotto l'applicazione file trip che utilizzava i dati della geolocalizzazione e poi si è sviluppata attraverso Google Earth ad esempio la narrazione cospirazionista di fondo è stata quella di pensare che il gioco Ingress fosse una strategia della Niantic per monitorare i giocatori influenzare elementi delle persone eccetera eccetera tant'è che come si vede in questa slide non solo Ingress dal 2013 in poi è stato il gioco Ingress vero e proprio è stato oggetto di questa di questa narrazione cospirazionista ma lo stesso Pokémon Go negli anni negli anni a venire ecco questa è la l'interfaccia di Filtrip questi sono dati reali che si fondono ai dati fantastici immaginari che la narrazione transmediale di Ingress si sviluppa parallelamente per supportare il lancio del gioco questa narrazione si sviluppa principalmente sul sito Niantic Project .com in cui un giornalista di cui non si sverra l'identità che parla in anonimato racconta che la Niantic ha sviluppato un progetto di ricerca su segreto al CERN di Ginevra in quegli anni addirittura impegnato nella ricerca sulla particella di Dio quindi il primo dato della narrazione cospirazionista viene fuori proprio dalla commissione intrinseca fra dati reali luoghi reali e dati inventati e entità in questo caso inventati e quello che viene fuori è una storia science fiction in cui i giocatori devono cercare questa exotic matter che è disseminata in tutto il mondo e in prossimità di punti strategici di interesse luoghi culturali e questa addirittura questa exotic matter sembra connessa dell'entità aliene dette shapers che si tradurrebbe come plasmatori esseri transdimensionali che sono interessati alla razza umana e interagiscono con il mondo ponendo gli esseri umani sotto l'influsso dell'exotic matter nella 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 narrazione abbiamo sia quindi questo universo intradiegetico in cui c'è questo giornalista che rilascia su questo portale dei leak e sia il mondo extra diegetico quello dei giocatori in cui le ad esempio le sessioni di gioco collettive organizzate dalla niantic diventano poi oggetto della narrazione transmediale sul portale del niantic project e poi una serie di testi una serie di testi come quelli che ho messo al centro che sono romanzi storyboard testi di di vario supporto che raccontano la storia di ingress che arrivano da arrivo da questa figura fantastica che il giornalista che rilascia queste storie ma poi questi libri sono effettivamente acquistabili su amazon eccetera e vanno a comporre l'universo trasmendiale di ingress l'operazione di pa chapeau come si chiama il giornalista che rilascia queste informazioni segretissime della niantic fa un'operazione di su sveglianza potremmo dire su sveglianza termine coniato da steven man per indicare il l'inverso della sorveglianza un'operazione che casualmente anche qui si fa con i dispositivi indossabili e collegati ai alle tecnologie di gps dell'ubiquitous computing ecco queste sono inizio illustrare delle per andare verso la conclusione delle retoriche delle retoriche della narrazione cospirazionista di ingress vedete se si sente l'audio se parte il video prima forse conviene passare oltre perché stiamo ormai verso la fine ok i video erano giusto un modo per dare la suggestione di quello che è lo stile narrativo della cospirazione di ingress che è fatto sia a livello discorsivo una narrazione a puntate come si vede a sinistra ogni mese vengono rilasciati dei leak da novembre del 2013 da novembre del 2012 a febbraio del 2013 e vari tipi di testo delle buste sigillate delle i video fatti male l'intelligenza artificiale ecco qui l'intelligenza artificiale che parla su un piano narrativo perché essenzialmente è una storia di thriller in cui si cerca di scoprire quali sono le vere intenzioni della Niantic e retoriche di tipo stilistico visive in cui si mette insieme sia ma in cui lo spettatore della narrazione transmediale è invitato sia a leggere delle mappe a decifrarle a cercare all'interno i documenti dei codici per poi aprire cartelle segrete eccetera e poi anche come in questo caso in basto un tentativo di concretizzare effettivamente questa exotic matter che non si sa che cosa sia non viene mai specificato è un'allusione alla realtà aumentata o meglio alla realtà alternativa come preferiamo chiamarla io credo di aver finito scusate se ho sforato qualche minuto e basta vi ringrazio per l'attenzione benissimo grazie siamo allora pronti adesso per l'ultima relazione che è di Gianmarco Thierry Giuliana spero ci sia perfetto sentire quasi la stessa cosa nuove retoriche nuove strategie di veredizione nelle narrazioni digitali audiovisive eh sì buongiorno a tutti buon pomeriggio eh sono felicissimo di essere qui vi parlerò oggi di alcune strategie appunto e retoriche che riguardano le realtà virtuali affronteremo il problema di se questi testi eh siano davvero diversi da altri dal punto di vista della loro capacità di convincere del loro realismo eh oggi in 15 minuti per me è assolutamente impossibile spiegarvi anche se è stato il contesto in cui questa ricerca ha senso ovviamente si tratta della continuazione del mio progetto di dottorato in cui ho studiato quasi 350 testi fra videogiochi e VR mi sono occupato di studiare l'esperienza dal punto di vista semiotico e eh il mio approccio è stato caratterizzato da includere il corpo in carne ed ossa del giocatore dello user insieme al tempo che è una cosa che invece la semiotica tipicamente eh non aveva fatto tutto nasce in realtà dalla mia prima esperienza nella realtà virtuale che inizialmente non doveva assolutamente far parte della mia del mio progetto di dottorato così come il tema dell'esperienza in sé per sé non doveva essere centrale la prima volta che ho provato la VR era uno studio in cui in realtà ho collaborato per la mia ricerca per due mesi e eh per farmi provare la realtà virtuale dunque per chi non lo sapesse è una specie di videogioco con un casco che occulta completamente la visione e l'udito ehm mi sono trovato su questo grattacielo ehm durante un attacco alieno con il cielo delle navicelle spaziali dei caccia americani che stavano combattendo e come potete immaginare facilmente eh con il palazzo sul quale ero fra pochissimo sarebbe stato distrutto e io sarei precipitato nel vuoto eh in quella situazione lì eh dopo anni che io insomma giocavo ai videogiochi fluivo di testi audiovisivi di ogni tipo eh mi sono trovato in una situazione nuova per la prima volta in vita mia cioè le gambe mi tremavano il battito cardiaco aumentava eh in modo sudente e incontrollato cominciavo a sudare cominciavo a stare male nausea e così via eh cioè io per far fronte questo testo è stato è stato assolutamente violento per me da un punto di vista sia psicologico che eh fisico per un motivo molto semplice cioè che io soffro di vertigine nella vita reale eh ma eh anche se il motivo è semplice in realtà non è affatto scontato che in una realtà virtuale esattamente i stessi sintomi che avrei avuto o quantomeno forse non esattamente ma in modo incredibilmente vicino si siano avverati e io per affrontare questo testo ho dovuto fare l'opposto di quello che è per noi la sospensione dell'incredulità ci ho dovuto dirmi costantemente questo non è vero questo non è vero questo non è vero è stato l'unico modo che ho avuto per andare avanti allora eh fondamentalmente diciamo che da questo effetto sensazionale da questo effetto corporeo che ha fatto gran parte del successo non soltanto della VR come tecnologia ma molto prima in realtà già dei videogiochi mi sono chiesto da un punto di vista semiotico c'era qualcosa di interessante sul quale riflettere e questo qualcosa di interessante secondo me è precisamente l'esperienza è precisamente il problema del vero il problema della conoscenza cioè in che misura questi elementi spingono verso la percezione di qualcosa che è percepito come vero a differenza appunto di per esempio un romanzo che è un'esperienza altrettanto vera e dall'altro lato se questo forte potere di realtà questo effetto di realtà diremo in semiotica può essere considerata una retorica e modificare quelle che sono le logiche di veredizione che noi conosciamo in altri testi questo è particolarmente rilevante da un punto di vista sociale se pensiamo ad alcuni testi in VR riguardano appunto l'alterraggio sulla Luna piuttosto che il presidente di politici come il presidente Obama personalmente io ho avuto ho studiato l'Apollo 11 in VR come caso di studio e io ho un ricordo non soltanto di quello che è accaduto diciamo da un punto di vista storico ma ho un ricordo percettivo della Luna o anche un ricordo fisico di come ci si sente a saltellare sulla Luna senza gravità e questi sono fatti molto interessanti per noi semiologi per riuscire a rispondere a queste due domande ci sono quattro tipi di saperi che vanno mescolati i primi tre che sono stati presenti diciamo sin dall'inizio della mia ricerca e il quarto che vi presento oggi sul quale mi piacerebbe discutere con voi il sapere tecnico su come funzionano appunto queste realtà le realtà virtuali anche la tecnologia un sapere scientifico su come funzioniamo noi su come funziona il nostro corso la nostra percezione il nostro cervello un sapere semiottico sulla strategia di veredizione effetto di realtà come che la nostra mente dice che qualcosa è reale e infine un sapere tipo filosofico sul rapporto fra mondo conoscenza e verità è stato il libro del professor Sebastiano Vecchio del 2019 che ha a ispirarmi in realtà questa nuova direzione successiva il mio dottorato di ricerca così come nel suo articolo del 2020 Modi questioni del credere dove appunto si utilizza Peirce una prospettiva semiottica proprio per riflettere sul tema di quella che è la conoscenza per noi di come che noi conosciamo il mondo e dell'accesso che abbiamo adesso allora in che senso si conosce una realtà virtuale in che senso possiamo parlare di conoscenza di una realtà virtuale beh ci sono almeno tre sensi prima di tutto le realtà virtuali si scoprono ci sono delle regole e delle matematiche che il giocatore l'utente non conosce e deve scoprirle deve scoprirle perché ci sono degli scopi da raggiungere e non soltanto questo ma queste regole matematiche questo codice informatica è così complesso che spesso anche il creatore non ha del tutto idea di quello che può accadere in una realtà virtuale questa è piuttosto la normalità dal punto di vista il panorama culturale interessante cioè abbiamo un creatore che non ha idea i quali enunciati vengono realizzati all'interno del proprio testo secondo c'è un adattarsi questo adattarsi conosce in realtà virtuale vuol dire utilizzare il proprio corpo i propri occhi una serie di capacità quindi tipi psicologiche bisogna adattarle appunto a questo sentire quasi la stessa cosa questo vedere quasi con i propri occhi sentire quasi con le proprie orecchie muoversi quasi con le proprie gambe e questo chiaramente è un altro aspetto della conoscenza e infine legato a questi due c'è l'imparare e riuscire cioè le realtà virtuali più noi pratichiamo più noi ci relazioniamo all'interno delle realtà virtuali e più miglioriamo questo è proprio parte del design evoluto come progetto comunicativo e fa parte del fatto che noi a un certo punto ci sentiamo come esperti come parte di quel mondo a tutti gli effetti allora non sono certo il primo a parlare di retorica negli videogiochi il testo di riferimento qui a Jan Bogost giochi persuasivi in cui lui parla di retorica procedurale riferendosi al fatto che le regole del gioco inscritte tramite il codice informatico veicola contenuti al posto di immagini testo scritto musiche che contano molto meglio in un videogioco l'altro testo è di Arset Cybertext dove il concetto di effort è centrale e l'effort banalmente il fatto che le persone usano il proprio corpo il proprio tempo le proprie energie per poter andare avanti allo stesso modo da un punto di vista epistemologico Claudio Paolucci sicuramente è il semiologo di riferimento che si è occupato in modo recentissimo con l'ultimo libro Cognitive Semiotics che avete detto sulla destra ma in realtà da più di dieci anni con The External Mind per esempio un articolo molto conosciuto della nostra comunità in cui fondamentalmente si affronta il problema di come si può utilizzare la semiotica persiana per affrontare il problema della mente e anche dialogare con quelle che sono le scienze cognitive in particolare le teorie inattive e embodied il professor vecchio spinge riorienta questa base epistemologica verso il problema del conoscere che è estremamente interessante perché appunto si concentra molto sulla centralità del guessing in Peirce e già ci dice che indovinare è una razza di significato pratico-conoscitiva non soltanto questo ma per Peirce il guessing cioè il modo in cui noi intuitivamente accediamo in un certo senso alla realtà è un meccanismo precognitivo a base istintuale che si può verificare tramite verifiche che sono soltanto successive esistono dunque dei modi delle qualità del credere che sono diverse ed è questo un punto fondamentale della mia presentazione cioè tutti quegli aspetti che noi tenderemo a chiamare cognitivi che hanno a che vedere con quello che noi sentiamo la proprio eccezione così come la percezione sono molto simili in realtà a quella parte del guessing e in particolare del belief persiano cioè qualcosa che noi crediamo senza averlo mai voluto credere perché noi non abbiamo scoperto tramite la logica e la verifica ma che in qualche modo è intuitivo una credenza genuina e tra l'altro in per se è molto legato come sempre ci ricorda vecchio nell'articolo 2020 a un principio di azione tipicamente un abito in base al quale noi agiremo in modo quasi istantaneo e questo fuori dalla semiotica lo ritroviamo in realtà anche intendo per esempio della psicologia delle emozioni con questa teoria di Jesse Prince che è molto famosa dove appunto Jesse Prince studia le emozioni proprio partendo dal presupposto che dal punto di vista cognitivo la proprio gestione ha per noi un valore di verità superiore ad altro cioè il nostro corpo reputa che certe informazioni sono più o meno affidabili e la proprio gestione ha un alto altissimo di affidabilità rispetto ad altre cose il che ci ricorda tutto l'interesse che abbiamo noi per le illusioni ottiche e così via proprio perché appunto è soltanto in quei casi lì che il nostro belief cognitivo si dimostra fallibile prima noi non dubitiamo mai della nostra percezione ecco allora che noi conosciamo le realtà virtuali fondamentalmente riconoscendolo cioè le realtà virtuali quello che fanno è utilizzare gli habits sviluppati fuori da esse per agire all'interno di esse e dunque cercano di farlo nel modo più vicino possibile utilizzando il nostro corpo il sistema nervoso e così via e dunque lanciare una palla di canestro fare un canestro con una palla da basket per esempio richiede effettivamente molte cose che noi abbiamo imparato veramente su un campo da basket la fisica tra l'altro ovviamente anche studiata per questo ma al tempo stesso c'è un dire quasi la stessa cosa in modo estremamente interessante se noi guardiamo non alla semiotica che sta sempre postulato la mediazione la traduzione come un principio di base del senso ma se guardiamo alle neuroscienze quando si fa per esempio si guarda il cervello di una persona che si sta orientando in una realtà virtuale noi vediamo che le stesse zone del cervello diciamo sono quelle che si attivano rispetto alla realtà fisica dunque non c'è sostanzialmente differenza da questo punto di vista ma invece il pattern neurale è molto diverso dunque c'è veramente un riadattarsi che però a noi non sembra tale proprio perché ci sembra un essere in quella realtà fuori da quello che per noi è tipicamente il linguaggio e infatti però al tempo stesso diciamo che il professore vecchio sempre si concentra sul problema del questo credere che non è ovviamente non può essere solamente intuitivo esiste una forma del credere che si poggia sul linguaggio sul discorso raccontato sulla fiducia che è assolutamente centrale nella nostra vita di tutti i giorni sul nostro essere sociale tanto che è vecchio stesso che affronta il problema della retorica la differenza fra proof e evidence per esempio che è esattamente questo dunque è qualcosa è un tema che diciamo una lunga tradizione semiotica che io in realtà non faccio altro che riprendere e riapplicare quelle che sono le realtà virtuali e in particolare mi interessa questa affermazione per cui il racconto può esprimere questo credere il racconto esprime il belief esprime ciò che apparentemente non è il linguaggio e coloro che per concludere vi propongo questo diciamo questa ipotesi se noi riconosciamo che la cognizione è una parte del belief persiano e alla luce del teoreo embodied inactive riconosciamo la cognizione una complessità semiotica tale da considerarla come conoscenza e dunque da includerla in un ambito museologico se riconosciamo la dimensione intuitiva del conoscere cioè al credere persiano uno statuto semiotico e retorico particolare al punto di vista della veredizione cioè noi crediamo maggiormente a ciò che crediamo rispetto a ciò che sappiamo se riconosciamo le realtà virtuali quella capacità di simulare regole d'azione sviluppate fuori da esse attraverso abiti e credenze che vengono tradotti non banalmente lanciare una palla per fare canestro e infine se riconosciamo l'abito credenza con una modalità semiotica fallibile ma conscia cioè noi non abbiamo accesso alla nostra percezione direttamente ma siamo ben consci che quello che noi vediamo lo vediamo direttamente in un certo senso cioè senza verifiche logiche questi quattro punti che mi sembrano in realtà abbastanza accettabili avrebbero una larga bibliografia interdisciplinare a loro favore allora noi possiamo prendere ci sono tre conclusioni possibili la prima è che non abbiamo motivo di dubitare il fatto che le realtà virtuali hanno una particolare forza retorica proprio perché mettono in discorso il credere cioè un linguaggio del credere da cui l'effetto esperienziale è l'effetto di realtà secondo punto possiamo pensare a una semiotica del virtuale in cui il virtuale si contrapone al reale unicamente dal punto di vista di una diversa attualizzazione del potenziale cioè qualcosa che noi avremmo già potuto fare si realizza in modo diverso proprio perché c'è un dire quasi la stessa cosa attraverso il nostro corpo insieme al linguaggio e infine anche per chi non si interessa di realtà virtuale di questi temi in realtà questa problematica mi sembra interessante per una semiotica che si interessa all'esperienza in generale sul rapporto fra l'immanenza dell'oggetto e la natura trascendente della credenza e conoscenza che ci fornisce l'accesso all'oggetto fondamentalmente e dunque potremmo forse partire dalle realtà virtuali per tornare ad altri testi che non sono realtà virtuali e riflettere proprio su questi effetti di senso con questo concludo e vi ringrazio grazie molte in questo punto ringraziamo tutti i cinque relatori anche per il rispetto del tempo sono le quattro e mezza quindi abbiamo una mezz'ora di discussione non so come sia stata fatta la volta scorsa se riesco a vedervi tutti qui sì potete anche alzare la mano altrimenti scrivere domanda in chat mi sembra di vedere domande allora magari rompo io il ghiaccio con due domande per due relatori diversi una per Matteo Adamoli e una per Silvia Verdiani a Matteo Adamoli vorrei chiedere a un certo punto ha citato Barth e ha detto la narrazione è una fonte citando Barth la narrazione è una fonte di conoscenza qui c'è un tema che almeno nella letteratura analitica sulla finzione è molto molto dibattuto cioè la questione se possiamo imparare qualcosa dalla finzione perché sembra un paradosso che da qualcosa che è fittizio e che quindi tendenzialmente ci descrive qualcosa di non vero noi possiamo imparare qualcosa che ci porta diciamo fuori dalla finzione e dentro la realtà avere diciamo così conoscenze rispetto alla realtà che è evidente abbastanza ovvio perché altrimenti la letteratura non ci interesserebbe però diciamo c'è un problema su come questo si può fare e mi chiedevo diciamo se nel suo approccio questo è attraversato a Silvia invece vorrei chiedere se ha mai considerato l'aspetto di cose che sono al tempo stesso immagini e testi letterari in un solo momento diciamo sempre a dimostrazione come dire che i due veicoli non solo si possono sovrapporre ma si possono anche fondere un esempio molto carino che a me viene in mente è un esempio di Lewis Carroll che in Alice nel Paese delle Meraviglie scrive il racconto del topo e diciamo il racconto del topo è una poesia scritta a forma di topo diciamo così quindi come dire si vede un topo nella poesia e anche la coda esattamente e si vede la coda del topo quindi come dire a volte diciamo le due cose si fondono insieme the long tail esatto si basa su questa ambiguità in inglese fra tail e tail esatto prego Adam Oli prima ok inizio io va bene grazie della domanda e allora sì questo è il grande dilemma no provo a fare la la qualche esempio e e vederlo poi nell'ecosistema digitale perché poi la sfida è quella prendiamo il format della fiaba quindi dell'elemento fiaba o possiamo prendere la letteratura abbiamo visto anche negli interventi precedenti il mondo della simulazione virtuale allora da questo punto di vista la fiaba cos'è è un simulatore di realtà no che almeno a livello pedagogico serve a cosa serve a a formare le giovani generazioni ad addestrarle alla vita vera quindi noi da questo punto di vista possiamo considerare qualsiasi narrazione no con una finalità diciamo così di conoscenza di sapere restando sempre nella nell'approccio pedagogico ok è chiaro che qui il ruolo della finzione narrativa pone due questioni nell'ecosistema digitale in particolare una la la questione del design no e quindi la progettazione del dispositivo narrativo in sé che ha già in sé un'intenzionalità quindi ha un'intenzionalità che può essere io la chiamo formativa se non vogliamo usare il termine educativo ok quindi ha una finalità può avere una finalità di apprendimento oppure può avere altre finalità gli esempi che facevo prima della platform society l'impostazione di alcune piattaforme ok della maggior parte delle piattaforme che noi utilizziamo hanno una finalità un'intenzionalità economica no rispetto al loro funzionamento quindi è chiaro che qua almeno non dal punto di vista semiottico in in profondità ma sicuramente dal punto di vista pedagogico educativo il il vero focus è l'intenzionalità con cui io progetto una narrazione e qual è la finalità con cui io ci lavoro Silvia prego sì senz'altro grazie per la domanda e il suggerimento è senz'altro un suggerimento molto interessante tra l'altro su questo a questo aveva dato particolare spazio nella sua ricerca anche Petofi io no non me ne sono ancora occupata nel senso che la ricerca che ho fatto per il mio dottorato tardivo era incentrata sulla comunicazione digitale in particolare legata a una situazione politica molto specifica quindi non non sarei in grado di citare testi che abbiano delle caratteristiche che siano iconici in quel senso no appunto come i testi che citavi tu di Lewis Carroll però naturalmente su questo si potrebbe fare un lungo lavoro di analisi naturalmente diciamo che da questo punto di vista si torna a lavorare su testi letterari o comunque artistici su supporti tradizionali ed è questa la ragione per cui fino adesso non ho dato molto spazio però insomma senz'altro è molto interessante come prospettiva sì anche perché come dire va in una direzione che fu esplorata originariamente da Nelson Goodman il quale disse nel suo fantastico capolavoro dei languages of art che in realtà non c'è una vera distinzione tra formato iconico e formato linguistico tutto dipende da come una e una stessa cosa viene vista sostanzialmente su quale proprietà ci si focalizza ma non voglio togliere spazio e tempo alla discussione e però continuo a non vedere domande non siate timidi faccio io una domanda se possa per i primi tre relatori la mia domanda riguarda il loro uso del concetto di dispositivo che effettivamente è interessante però appunto e anche si potrebbe applicare diciamo il concetto di dispositivo di Latour a cose molto diverse e volevo che loro riflettessero un po' mi spiegassero un po' meglio diciamo in che senso noi questo concetto diciamo ci aiuta la turista semiotico a affrontare di fatto quello che è qualcosa come il deep learning cioè le intelligence artificiali che cominciano ad avere dei ruoli fondamentalmente attanziali o sono loro che enunciano diciamo perché quando la foto viene caricata quello che succede è che la foto viene animata da un algoritmo che ha imparato tipicamente deep learning come muovere un volto in certe condizioni dunque l'intelligenza artificiale è quella che enuncia e l'intelligenza artificiale quella che in un certo senso diventa lattante del testo e volevo sapere in che modo diciamo il concetto di dispositivo si relaziona con il tema fondamentale per tutte queste tecnologie del deep fake dell'intelligenza artificiale grazie Paolo hai tu? Sì grazie di questa domanda si relaziona in maniera molto forte a mio avviso molto chiara io mi sono occupato del rapporto tra la tua e la semiotica in un libro che è uscito due anni fa un tema su cui sto lavorando ancora diciamo che la portata importante per la semiotica del lavoro di Latour che come sappiamo tutti prende le mosse da alcuni concetti forti della teoria semiotica in particolare il concetto di 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 attante e il concetto di enunciazione sta nel fatto che Latour prima della semiotica è stata in grado a mio avviso di porre l'accento su un tema che pure con la semiotica ha molto a che fare cioè la questione della gentilità intesa come capacità di entità diverse di produrre una reazione un cambiamento di uno stato di cose a partire esclusivamente da una logica che è la logica del concatenamento Latour lo dice chiaramente è a tante tutto ciò che resiste a una prova di forza trial of strength in tutto questo io credo che la riflessione di Latour sulla nozione di dispositivo che come dicevamo prima lui intende in maniera piuttosto ampia come un concatenamento di entità diverse umane e non umane che sono in grado di generare un cambiamento sia in realtà molto interessante per la semiotica che lo testimoniano una serie di lavori recenti di colleghi penso a Gianfranco Marrone penso a Claudio Paolucci penso a Ruggero Eugeni penso a Jacques Fontanille e diversi altri che stanno ragionando moltissimo sul modo in cui la teoria di Latour sui modi di esistenza e che chiaramente anche farà anche con la questione del dispositivo possa essere di stimolo per la semiotica in particolare i riferimenti a cui che facevo prima molto rapidamente perché in 15 minuti non è semplice per nessuno riguardano questi due libri recenti quello di Paolucci sull'enunciazione impersonale sul superamento diciamo della dicotomia annunciatore-enunciatario in particolare con riferimento lui si concentra sui testi audiovisivi ma poi fa riferimento anche a dispositivi per l'esperienza immersiva e il libro uscito da pochissime settimane di Ruggero Eugeni che si chiama Il capitale algoritmico in cui Ruggero ragiona a mio avviso in maniera interessante proprio sul di nuovo sulla questione dell'enunciazione sull'enunciazione impersonale arrivando a proporre un'enunciazione addirittura a personale usando proprio questo termine a personale per mettere in evidenza come il concetto di enunciatore che per noi è fondamentale su questo non ci sono dubbi però tuttavia può arrivare a risultare problematico nel momento in cui prendiamo in considerazione tipi di esperienza che a mio avviso correttamente lui definisce post mediale in cui trovare un io un tu o un egli francamente diventa impossibile quello che mi sembra molto interessante nel caso di Deep Nostalgia è il fatto che chiaramente c'è un essere umano che è il punto di partenza del processo sono io che decido quale immagine voglio animare ad esempio molte persone hanno deciso di animare immagini di parenti che non hanno conosciuto perché sono morti prima che loro nascessero e quindi c'è una curiosità che chiaramente è legata anche a una dimensione affettiva oppure riportare in modo simulacrale in vita qualcuno che non c'è più tuttavia è chiaro che questo è solamente un pezzo di un processo molto più ampio in cui entrano in gioco istanze diverse come appunto gli algoritmi ma ripeto a mio avviso questa triplice accezione della nozione di dispositivo come device cioè apparecchio come assemblage che fa riferimento al lavoro di Latour come apparato che rilegge la nozione di Foucault è molto utile per noi perché ci costringe a ragionare sul fatto che con le categorie per noi assolutamente consolidate e molto utili per leggere il funzionamento di alcune tipologie di testo di discorso o di esperienza mediale di fronte a questo tipo di pratiche così particolari così complesse dobbiamo interrogarci sulla anche capacità euristica della nostra delle nostre categorie quello che io trovo estremamente promettente è che il pensiero di Latour che pure per sua stessa missione semplifica ed estende categorie centrali della teoria semiotica in qualche modo porta la semiotica anche a riscoprire degli autori interni alla disciplina semiotica che a mio avviso hanno anche anticipato seppur in ambiti diversi dei fenomeni che stiamo vedendo in questo momento esplodere in particolare penso a Christian Metz che non a caso è uno degli autori più citati nel libro di Eugenio anche il libro di Paolucci e che aveva parlato dell'enunciazione impersonale con riferimento certo non a quello che stiamo vedendo noi oggi ma all'ambito all'ambito del cinema io quindi credo che ripartire da questi da queste nozioni da questi autori e perché no lo citavamo con Antonio con Riccardo rileggere la camera chiara di Barth le riflessioni di Barth sul noema della fotografia sulla specificità dell'immagine fotografica sul dolore generato dall'immagine fotografica e vedere come oggi la fotografia in un'epoca in cui siamo in grado come ci hai fatto vedere anche tu di esperire di fare esperienza di forme di realtà aumentata assolutamente innovative tuttavia la fotografia non è affatto scomparsa al contrario dimostra ancora di essere una delle forme mediali più pervasive e continuamente soggetta a forme di rimediazione trovo che sia straordinario che 26 milioni di animazioni generate da fotografie di archivio insomma ci dicono qualcosa di non banale sulla nostra difficoltà a fare i conti con la morte ma anche sulle nuove forme di rimediazione della memoria io penso che ecco anche qui la semiotica sulla memoria molto sta lavorando e da molto lavora penso al gruppo di Bologna Patrizia Violi ed altri ed altri colleghi penso che forme come questa siano interessanti perché spingono la semiotica o sono di stimo la semiotica anche per rileggere come dire la capacità della nostra metodologia di cercare di rendere conto di questo tipo di fenomeni finisco rapidamente noi ci siamo interrogati un po' su Deep Nostalgia però sempre nel quadro di forme diverse di simulazione per quello abbiamo deciso di inserire questo esempio come l'ultimo esempio perché laddove in genere stiamo assistendo a forme di rielaborazione di immagini di partenza che sono caratterizzate da un intento di tipo ludico ironico o provocatorio polemico in questo caso la dimensione ludica scompare ancor più quella ironica e anche quella polemica ne emerge un'altra che in fondo c'è sempre stata perché tipica del funzionamento semiotico della fotografia che ha a che fare con la nostalgia appunto ecco prima Voltolini giustamente parlava della questione cosa si può imparare dalla finzione ecco su Deep Nostalgia noi ci siamo un po' interrogati perché se andiamo a riflettere su una serie di film e di romanzi di opere letterarie che hanno anticipato questo tipo di esperienze forse possiamo trovare anche lì degli spunti degli spunti non banali mi vengono in mente in particolare una serie numerosissima di film e di opere sugli ologrammi Deep Nostalgia chiaramente non è un ologramma è una forma molto più molto più elementare però ci sono molti film in cui gli ologrammi vengono utilizzati per riportare in vita chi non c'è più ecco allora da questo punto di vista mi sembra che sia interessante anche andare un po' a ragionare in termini di ripresa di racconti preesistenti che prefigurano in fondo qualcosa che adesso la tecnologia riesce a realizzare concretamente sì se posso anch'io su questo grazie intervento grazie 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 ciao che mi è molto mi ha molto impressionato questo caso della della fake nostalgia proprio a livello narrativo e pensavo che probabilmente si potrebbe mettere in relazione strutturale la nostalgia con la speranza in questo caso cioè tra l'altro la cosa molto così divertente che tu dicevi giustamente vabbè lì non c'è un enunciatore no però questi questi morti comunque si voltano e ci danno del tu e sorridono cioè comunque quindi il volto è una frontalità che viene in qualche modo riconosciuta come ritorno a un rapporto di interlocuzione cioè quindi l'animazione legata al dialogo a tu per tu no quindi faccia a faccia e mi veniva in mente quindi l'installazione di Bilbaio la Ocean Without the Shore con questi morti che ritornano all'analisi che ha fatto Fabri e lì però invece sono loro a voler tornare non qualcuno che in qualche modo li fa tornare e questo loro ritorno invece ai tratti della delusione e sarebbe interessante fare un confronto con quel tipo di struttura narrativa che ha in qualche modo una dinamica di nostalgia e speranza che viene mantenuta però stravolta dal punto di vista enunciativo comunque mi interessava il sorriso mi sembra un ottimo spunto questo in fondo si lo abbiamo appena accennato con Riccardo e Antonio la questione della nostalgia anche andando a rileggere nella sua struttura modale ci dice molto del funzionamento di questa di questa applicazione quello che dici lo condivido pienamente e senz'altro vale la pena di andare anche a rileggere a fare riferimento al lavoro di Bibbiola mi veniva in mente anche una cosa una cosa non banale che queste forme poi lo dicevamo nella conclusione sono concepite per essere condivise che questa è una cosa molto importante perché non sono semplicemente 26 milioni di animazioni 26 milioni di animazioni di foto diverse di archivi personali ma sono immagini che hanno circolato enormemente in rete sono state riprese da un numero enorme di testate a livello internazionale e quindi diventano di dominio pubblico quindi è un'emozione privata una nostalgia privata per me che ho caricato la fotografia non per te che non conosci quello che è stato un parente che io vorrei riportare in vita quindi c'è un tema anche come dire di che ha a che fare con le passioni collettive lo scarto tra una passione individuale e una passione collettiva insomma c'è un tema qui per niente banale che è la rienunciazione di un'esperienza individuale tramite le reti sociali che a sua volta implica una trasformazione da un punto di vista a mio avviso del senso di questo tipo di esperienza quindi un'esperienza naturale anche perché allora è vero che sono algoritmi e programmi giusto però è come se ci fosse un meccanismo culturale comunque testato e assodato per cui se i morti tornano in vita almeno in questo caso in questo esperimento qui si voltano e sorridono cioè questo secondo me è interessante ma è molto interessante quello che dici Tiziana anche perché non sono zombie no per esempio per fare un esempio per citare altri non sono degli zombie ma invece si presentano con un aspetto completamente diverso sorridente diverso dalle foto funerarie che avevano all'origine le fotografie rassicurante rassicurante o diverso dal fatto che per esempio la fotografia era sempre una riflessione di Fabri è stato il primo strumento con cui l'uomo si è visto invecchiare in qualche modo prima era delegato a una memoria quindi ci sono secondo me ci sono dei tratti la questione interessante è la programmazione dell'algoritmo se quella è una forma di enunciatore l'algoritmo ma così diventa di nuovo impersonale imponderabile no? In ogni caso è carica di un senso di una ovviamente cioè di una significazione che è ovviamente depositata nei nostri immaginari per cui se i morti tornano in vita tornano in vita in questo modo qua ma sì Tiziana io penso che se se l'algoritmo prevedesse che la foto che tu gli metti dentro possa farti una smorfia capisci che l'ironia tornerebbe in gioco cioè cambierebbe completamente stranerebbe completamente il senso dell'operazione è chiaro quella foto deve semplicemente voltarsi guardarti e sorriderti punto non può fare altro che però è già tanto è votata ma è votata non fare altro secondo me però secondo me il problema dell'enunciazione ritorna come diceva giustamente Paolo quando l'utente che ha caricato assume assume il lavoro algoritmico e lo socializza perché lì dice che lo accetta dice io in fondo l'ho fatto io lui l'ha fatto lui l'ha fatto per me io mi riconosco perché appunto se invece non gli piacesse cosa ne viene fuori del suo parente re di vivo probabilmente non lo condividerebbe rischiuderebbe lì il circuito semiotico sono andato infatti tornando anche la domanda di Gianmarco Giuliano cosa può fare cosa può dire la semiotica di questo la mia la mia la nostra risposta parziale per ora è che in realtà questi fenomeni sono intrinsecamente semiotici e lo vediamo nel momento in cui cominciamo a ragionarci sopra dal noemma della fotografia cosa ne è della fotografia durante come all'interno di un processo di trasformazione siamo andati a vedere un po' i commenti generati da queste animazioni e sono interessantissimi in genere la semiotica non si occupa molto della ricezione o della circolazione o del dibattito generato e invece questo è fondamentale in esperienze di questo tipo perché fanno parte proprio della progettazione dell'esperienza ed è molto in linea con quello che Francesco sollevava adesso perché lì puoi vedere come si scatenino dei dibattiti tra i parenti che hanno conosciuto quella persona e quindi ti dicono che effettivamente è più o meno realistico in genere dicono piuttosto realistico quindi mi fa soffrire di vederlo adesso che non c'è più è un parente che non l'ha potuto conoscere e che quindi si sorprende e si chiede se effettivamente somiglia a una come dire si avvicina all'esperienza che avrebbe potuto fare e quindi c'è proprio un allargamento del quadro enunciativo che a mio avviso è piuttosto come dire è sfidante per la semiotica e forse anche la ragione dell'enorme successo di questo tipo di esperienza poi il fatto che dietro ci sia un'azienda che lavora sulla ricostruzione del DNA e c'è tutto il tema per niente banale dei dati personali pensate 26 milioni di animazioni significa avere accesso a un database enorme di materiali significa mettere in correzione con altri dati legati all'età al paese insomma una quantità enorme di dati che poi possono avere usi diversi ecco e poi posso aggiungere solo una cosa per Francisco torna la la prassi enunciativa vera e proprio perché c'è intenzionalità se lo diffondi però appunto io stavo pensando proprio al tema dell'intenzionalità cioè c'è una distribuzione dell'intenzionalità che poi credo che sia anche quello che c'è in Federico Gianmarco cioè come diceva Latour non possiamo più rinchiudere l'intenzionalità dentro dentro il soggetto poi è vero la propria eccezione è fondamentale nell'attivare meccanismi di credenza di veredizione però questa intenzionalità è sempre più distribuita da insomma se capisco bene diciamo non sono esperto però da quello che avete mostrato mi sembra così non so ecco se Federico e Gianmarco sono d'accordo sicuramente la distribuzione dell'agentività non la circolazione dell'agentività sicuramente certo e beh sì riprendere Latour l'enunciazione tecnica lo spostamento dell'enunciatore in un in un oggetto che resta fermo ma rappresenta l'enunciatore umano l'enunciato tecnico e già risponde già un po' alla questione del di un'identità di un'identità oggettuale dell'oggetto tecnico come può essere l'algoritmo no bisognerebbe capire dove mettere la separazione fra i vari le varie tre tipologie di accezione del dispositivo in quanto un dispositivo che è un artefatto tecnologico pur sempre un enunciato tecnico ma rivolto al soggetto a un certo tipo di valenza semantica ma se lo vogliamo intendere come apparato o dispositivo in senso focoltiano cosa diventa diventa invece più la parte dell'algoritmo progettato per un certo per una certa intenzionalità che però non si può situare né nell'io né nel tu non so è un po' una suggestione però spero di aver reso l'idea sì sì probabilmente anche io sono d'accordo tanto che appunto si parla di coproduzione di co-enunciazione in tutti questi casi la cosa interessante è che questa co-enunciazione non è per esempio giocatore più creatore del gioco ma ha spesso a che fare col software in mezzo perché come dicevo prima la cosa più interessante per esempio per me di studiare le realtà virtuali esattamente che chi crea le realtà virtuali spesso è incapace di prevedere quello che poi vi accadrà dentro c'è una grande parte e questo dimostra proprio che non c'è un'intenzionalità da parte dell'autore empirico dietro al testo ma che c'è un margine dovuto in modo tra l'altro molto divertente alla complessità del codice cioè che chi fa il codice non riesce a prevedere tutti i possibili esiti non è qualcosa di come dire voluto e in realtà la complessità è il caso ma di fatto poi ti fa il risultato è una gentilità distribuita per cui costantemente nelle realtà virtuali esistono possibilità enunciative non previste dal creatore e che i giocatori si divertono ad attualizzare proprio perché non sono volute ma riguardano un rapporto fra utente e software va bene non vedo altre domande stiamo inesorabilmente arrivando alle 5 quindi al momento della pausa ringrazio ancora una volta facciamogli un applauso virtuale reale tutti i relatori e vi rinvito qui io sarò sostituito da un altro c'è tra un quarto d'ora per la continuazione di questa sessione parallela grazie arrivederci grazie a tutti arrivederci grazie a tutti arrivederci ciao grazie arrivederci vuoi fare hai un powerpoint Marta sì posso condividerlo cominciamo Francesco aspettiamo no io direi di iniziare così in qualche minuti diciamo li guadagniamo al dibattito tanto più o meno siamo in orario dovevamo iniziare le 5 e un quarto sono le 5 e 20 mi pare che ci siamo sì ok allora io condivido le slide sì prova un po' non so se le vedete ok allora la mia è una semplice analisi di un testo filmico che è appunto la migliore offerta di Giuseppe Tornatore sì è un film che è uscito nel 2013 che ha vinto un David di Donatello e è interamente scritto e diretto da Giuseppe Tornatore con le musiche di Ennio Morricone interpreti come Geoffrey Rush e Donald Sutherland è una narrazione che dal mio punto di vista è interessante perché racconta gli effetti della cospirazione sul rapporto tra uomo e realtà attraverso questo protagonista che è un protagonista complesso e che in qualche modo incarna i dubbi dell'uomo contemporaneo le sue difficoltà il suo essere costantemente in dubbio tra quello che si trova davanti se sia reale se sia rappresentato quale sia la differenza tra le due cosa è vero e cosa è falso è anche un uomo molto inconsapevole di questa sua situazione quindi adesso vedremo come si costruisce il racconto è un film che quindi intercetta delle tensioni che sono attuali in una chiave classica ma presenta delle figure tematiche che siamo abituati anche a vedere solo in determinate narrazioni di genere mi riferisco all'utilizzo dell'automa che negli anni tra il 2013 e il 2014 è apparso in diversi film come anche Hugo Cabret ma che in particolare in questo film ha un rapporto molto stretto con la posizione esistenziale addirittura dell'uomo e del protagonista del film e con il suo rapporto con la verità quindi questo automa che è un automa metaforico che è un automa vero e proprio che però si ripresenta ai giorni nostri con una veste diversa ma con lo stesso tipo di problematiche poi nella vita quotidiana delle persone volevo mostrarvi il trailer ma forse non è il caso perché dura un minuto e mezzo quindi vorrei evitare di perdere tempo la trama in sintesi è la storia di questo povero Virgil Oldman che è un uomo inizialmente arrivato direi un uomo di potere un grande esperto d'arte un uomo molto colto proprietario di una casa d'asse che si innamora di una donna una donna misteriosa che lo trascina al di fuori della sua comfort zone e alla fine scopriamo senza almeno io nella prima visione senza averlo intuito precedentemente che lo ha ingannato e che lui è stato vittima di una cospirazione da parte delle uniche persone di cui lui si fida e a cui è vicino gli unici altri personaggi all'interno della narrazione che hanno costruito proprio questa questa finzione ad hoc per lui allo scopo di derubarlo il racconto appunto si struttura in maniera abbastanza chiara ci sono delle intersezioni che riguardano l'evoluzione del personaggio diciamo che la cosa interessante è la gestione a livello visivo dei semisimbolismi che riguardano lo spazio della menzogna lo spazio della rappresentazione e lo spazio della verità all'interno del quale questo personaggio si muove e che sono costruiti attraverso fondamentalmente attraverso schemi cromatici per cui abbiamo degli spazi caratterizzati dal contrasto tra toni chiari e toni scuri o addirittura proprio tra bianco e nero che sono gli spazi all'interno delle varie sfumature di realtà dentro cui Virgil Oldman si muove e che vengono modulati progressivamente fino alla fine alla fine del racconto in modo estremamente interessante cioè quello che colpisce di questo film è il modo in cui tutto si tiene ci sono molteplici livelli di lettura e tutto torna infine allora io ovviamente ho ridotto all'osso le cose da dire perché si potrebbe secondo me entrare nel dettaglio per veramente moltissimo moltissimo tempo il protagonista è questo Virgil Oldman il suo il suo nome il suo cognome sono interessanti già in partenza perché Virgil non solo evoca Virgilio quindi comunque un uomo colto e una guida ma contemporaneamente a livello letterale evoca un uomo puro bianco come il Giglio e quindi c'è questa contraddittorietà un po' che poi si capisce meglio quando andiamo a conoscere il personaggio e Oldman riflette quasi prende in giro la paura principale di questo personaggio che è la paura di invecchiare nei primi dieci minuti di questo film noi abbiamo un ritratto quasi completo di questo personaggio scopriamo i suoi punti deboli le sue non so come dire le sue caratteristiche principali e quasi non ce ne rendiamo conto nel senso che scopriamo che intanto Virgil Oldman è un uomo è un uomo di potere un uomo molto solo ma che gode della sua solitudine è un uomo che mente spudoratamente inganna i suoi clienti per cui nei primi dieci minuti lui inganna una sua cliente sottraendole un'opera d'arte che in realtà è di grande valore ma lui che deve fare la valutazione non glielo dice e vediamo come le diverse inquadrature con cui lui ci viene raccontato raccontano proprio tutte le sue caratteristiche Virgil Oldman si isola dal mondo attraverso l'uso dei guanti nasconde la sua età tingendosi i capelli ama un certo livello di benessere e una certa nitidezza nelle cose cioè tutto ciò che viene presentato è un singolo pezzo un singolo dettaglio quindi lui ama la precisione la pulizia formale in ciò che lo circonda mente sfudorata sul suo compleanno a cena nel suo ristorante preferito e appunto questa è la scena in cui deruba la sua la sua cliente Virgil Oldman colleziona ritratti questo questo suo questa sua fissazione è il centro di tutta la storia perché i ritratti che lui colleziona illegalmente sono appunto frutto di una truffa che lui mette in piedi con Billy Whistler suo amico e insomma di vecchia data e lui li posiziona tutti all'interno di questo cavo nel suo appartamento e poi tutto ciò che fa è sedersi e contemplarli quindi questo cavo assume un po' il significato simbolico di un ventre materno del luogo dell'inconscio di Virgil Oldman dove lui può finalmente liberarsi della barriera dei guanti della distanza che mette verso il resto del mondo e lasciarsi andare un po' alla contemplazione della rappresentazione di ciò che lui potrebbe amare quindi delle donne delle donne della sua vita perché questi ritratti sono veramente la sua vita i cospiratori e quindi coloro che poi agiranno nei confronti di Virgil portandolo alla rovina fondamentalmente sono appunto Billy Whistler e Robert Robert è un po' il braccio mentre Billy Whistler è la mente già il nome Whistler richiama un pifferaio magico un personaggio un po' diavolesco direi è il grande architetto della menzogna che sta prendendo avvio all'inizio del film e fondamentalmente agisce per vendetta nei confronti di Virgil ma questa vendetta è una vendetta estremamente ragionata perché la menzogna che lui costruisce in realtà si genera attraverso cioè si scusate si mostra attraverso un percorso che ha l'effetto di smascherare le menzogne di Virgil di metterlo a nudo di fronte a se stesso Claire è la donna di cui Virgil si innamora la villa è appunto lo spazio all'interno del quale Claire si muove ed è uno spazio riservato alla costruzione dell'inganno che si 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 espletà soltanto all'interno di questo spazio non c'è mai nulla al di fuori di questa villa e poi abbiamo l'automa e quindi l'elemento metaforico che lega ancora più fortemente la figura di Virgil alla alla cospirazione perché Virgil in pratica all'inizio di questo percorso si interessa a questa Claire che gli chiede di fare una valutazione dei suoi beni per poterli mettere all'assa perché ritrova pezzetti di ingranaggi di questo tomo di Vaucanson che si pensava perduto insomma si pensava non ce ne fossero altri in circolazione e cerca di recuperarli tutti nel corso di questo suo tentativo truffaldino di recuperare questi pezzi di ingranaggi senza dirlo alla legittima proprietaria lui si innamora di questa donna ma nel corso di tutta la narrazione non le dirà mai quali erano le sue vere intenzioni quindi lui mantiene un'ambiguità di fondo che è la ragione per cui lui è punito cioè la ragione che gli ha attirato contro questa cospirazione ma che lui non abbandona mai allora abbiamo una menzogna scusatemi se non so se è chiarissimo che cosa accade nel corso della narrazione per chi non ha visto il film in ogni caso abbiamo una menzogna che funziona come una sorta di sequenza preordinata di azioni e reazioni quindi una sorta di algoritmo precostruito da parte di Billy Whistler con dei punti di svolta molto chiari dei tempi molto chiari e predeterminati da tutte le persone che circondano Virgil Oldman Virgil Oldman parte da una posizione fondamentalmente di inconsapevolezza di se stesso e di distanza totale tra lui e il mondo di azzeramento delle emozioni si lascia andare a queste emozioni e poi però viene come catapultato fuori da questo mondo che lui pensa di aver abbracciato ma che in realtà non esiste quindi questo automa in qualche modo lo rappresenta lui lo compone pezzo per pezzo ma questo automa lo rispecchia tutta la menzogna si gioca si gioca su una costruzione molto articolata di rispecchiamenti la donna di cui lui si innamora ha il suo stesso carattere ha i suoi stessi problemi per cui è una donna che non vuole avere contatti con il mondo non esce mai di casa è molto misteriosa non dice mai interamente la verità e ha un carattere terribile per cui lo maltratta costantemente l'automa invece ha una valenza più metaforica ma comunque lo rispecchia perché rispecchia la sua corazza cioè ciò che lui di se stesso sta abbandonando progressivamente ma che poi alla fine lo 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 confronterà in modo molto duro alla fine del film abbiamo anche dei personaggi dei personaggi secondari interessanti la vera Claire e quindi questa questa Claire Ribetzon che sarebbe l'autentica proprietaria della villa e non quella quella fasulla che si presenta a un certo punto nel corso della storia ed è è una donna nana con questo problema che non so sembra una sindrome di qualche tipo per cui dice cose che apparentemente non hanno senso ed è molto legata ai numeri e quindi è come se lei incarnasse la descrizione che Virgil stesso fa degli automi di Vaucanson e della loro funzione cioè di essere interrogati come oracoli almeno in passato erano interrogati come oracoli e al loro interno sedeva una persona piccola che poteva rispondere alle domande delle persone e si presumeva che dicesse sempre la verità questa verità però non ha nessun senso nel senso che quello che Claire Ibezon Vera dice nel corso della storia non ha senso solo a posteriori e soltanto attraverso il punto di vista di Virgil dopo aver fatto tutta l'esperienza però quindi è una verità inutile abbiamo quindi i quadrati delle tensioni profonde che orientano tutta la narrazione abbiamo Virgil che compie un percorso evolutivo per cui passa da una posizione in cui lui si trova nella in una posizione di falsità di pura esteriorità lui si pone nei confronti degli altri in modo arrogante freddo estremamente estremamente volitivo non empatico lui sembra una persona estremamente sicura di sé ma in realtà distanzia il mondo e non vuole averci niente a che fare e che ha zerato le emozioni in più mente costantemente quindi si può in questa posizione qua piano piano si lascia andare quindi passa in una posizione in cui lui abbandona questo suo attaccamento alle apparenze al sembrare a una dimensione appunto di finzione costruzione di se stesso fittizia per poi arrivare a una dimensione autentica c'è una scena in particolare in cui Virgil finalmente si sfileguanti preso dalla preoccupazione confronti di Claire li abbandona per strada e le fa una carezza sul viso in cui noi abbiamo davanti il crollo delle barriere di quest'uomo e quindi l'azzeramento della sua posizione iniziale per abbandonarsi è una posizione molto più autentica purtroppo però è una posizione per lui autentica ma basata su una rappresentazione mendace quindi abbiamo poi abbiamo un secondo quadrato e quindi una tensione irrisolta che è la tensione interna contraddittoria che caratterizza Virgil e cioè una tensione tra lo scegliere di essere un essere umano compreso tra la vita e la morte quindi in un percorso continuo tra la vita attraverso la vita verso la morte e invece una posizione di automa che rifiuta questo paradigma che dice no io mi ritraggo da tutte le cose del mondo mi ritraggo dall'amore mi ritraggo dal contatto fisico mi ritraggo dalle emozioni mi tiro indietro anche solo dalla socialità più semplice perché Virgil non ha amici e mi autoconfino in questa posizione quasi da automa e quindi abbiamo un altro percorso che Virgil fa attraverso questo quadrato da una posizione di non vita per cui lui finge di avere una vita ma in realtà non ce l'ha e pura contemplazione nel suo cavo all'interno del proprio proprio spazio personale verso una posizione di abbandono in qualche modo di in cui lui si si lascia andare alla vita si lascia travolgere dalle emozioni per poi ritornare però per via della truffa della minzogna che è stata messa messa in atto dai suoi nemici tra virgolette dai cospiratori in una posizione che non è più di non vita ma è di non morte lui cade in uno stato catatonico e quindi ritorna nella posizione dell'automa ma ritorna nella posizione dell'automa con la consapevolezza di essere stato un automa e quindi dotato di una di un livello superiore di comprensione che non lo aiuta tuttavia ad uscire dal suo paradigma di pensiero perché perché se all'inizio noi sapevamo che Virgil contempla le donne dipinte donne finte di cui sa tutto perché lui è un ottimo un ottimo esperto e sa distinguere ciò che è vero da ciò che è falso questa è una sua abilità che ritorna costantemente in tutto il film non è in grado di fare questa operazione con le persone per cui lui sa distinguere le rappresentazioni ma non sa distinguere ciò che c'è dietro alle rappresentazioni non sa andare oltre il livello non so come dire rappresentativo delle cose e ok quindi hai concluso? io ho praticamente finito lui infine si aggrappa a questa idea di 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 Claire che potrebbe ritornare nella sua vita e a noi rimane il dubbio che lui in realtà non sia cambiato perché che cosa succede lui prima ha la fissazione per i ritratti infine alla fine ha una nuova fissazione che è la fissazione per Claire pur sapendo che è falsa che lo ha ingannato che nulla di quello che gli ha detto è vero non sa nemmeno come si chiama lui va nel posto dove loro si sono dati appuntamento durante la loro la loro tresca tra virgolette la loro storia d'amore e l'aspetta lì e questo posto è costruito di come si vede in questa foto da ingranaggi che richiamano gli ingranaggi dell'automa e quindi noi ci chiediamo ma Virgil è riuscito a uscire dall'algoritmo guadagnando una vera consapevolezza di se stesso diventando un essere umano a tutti gli effetti nonostante nonostante la sua iniziale eritrosia oppure oppure no e poi c'è differenza tutto sommato tra una posizione e l'altra chi è in grado di riconoscere ciò che è vero da ciò che è falso e di fare questo percorso alla fine lui si trova in una posizione di dubbio esistenziale che è tipica degli esseri umani e che ancora di più caratterizza l'epoca almeno dal mio punto di vista l'epoca contemporanea e il rapporto con tutto ciò che ci circonda a maggior ragione quando si parla di rappresentazioni e di virtualità gli stessi temi si ritrovano in narrazioni di tipo fantascientifico come per esempio anche di grande successo come per esempio abbiamo Westworld e Ex Machina che sono due Westworld è una serie che è uscita l'ultima stagione è uscita l'anno scorso Ex Machina invece è uscita nel 2014 ed entrambi queste 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 narrazioni ripresentano gli stessi identici temi che Tornatore presenta in questo in questa chiave ma all'interno della cornice del genere fantascientifico e in una chiave orientata verso il futuro e non verso una direi contemporaneità classica diciamo ok grazie grazie sì chiederei Marta Pellegrini Università di ah io non sono non sono non sono dottoranda sono mi sono laureata all'Università di Bologna sono una ricercatrice qualitativa Università di Bologna chiederei adesso a Claudia Stancati se ha un powerpoint da presentare sì adesso cerco di condividere lo schermo qui continuiamo a parlare di automi perché il suo tributo si intitola c'era una volta un automa e quindi continuiamo siamo se riesce di condividere arriva vediamo un po' prima ci sono riuscita vediamo se riesco adesso eh provo eh perché così eh ci si no forse riprovo di nuovo un attimo solo forse sì 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 adesso ci siamo benissimo buonasera innanzitutto eh sì torniamo agli automi e ci torniamo prendendola molto molto alla lontana eh andiamo veramente a eh a cosa eh da dove nasce il termine anzi da dove nasce da dove nascono i termini che portano agli automi già nella sua origine il lemma macchina è marcatamente polisemico eh in più come vedremo oltre ai significati originari eh molti altri si raggiungeranno nel corso della storia eh quando il lemma macchina compare nel greco antico meccanè o macana nell'antica forma dorica rispecchiata poi dal latino macchina rappresenta almeno già due significati principali a quale se ne affianca successivamente un terzo meccanè significa in eh ha un senso generale significa mezzo ha un senso materiale qualsiasi eh specie di strumento ordigno una invenzione o una composizione e successivamente si aggiunge a questo a questo a questo senso un senso morale meccanè si sovrappone il significato di meccanè a un certo punto si sovrappone a quello di dolos cioè di inganno di intrigo passando in latino macchina si conserva il senso materiale di macchina e dolus trasmigra e in dolus trasmigra il senso di inganno eh come possiamo leggere nel forcellini eh il senso morale di inganno sopravvive negli usi traslati dei corradicali cioè macchino macchinazio che accanto al senso di costruire fabbricare macchine strumenti e congegni eh ha già in latino le forme di complotto intrigo inganno tutto quello di cui ci occupiamo in queste giornate questo senso morale negativo è conservato nei termini derivati delle lingue moderne macchinare macchinazione macchine eh anche in inglese tedesco eh il il senso è in questo senso è conservato l'altro è l'altro termine ovviamente è il il termine automa eh la frase eh in greco che potete qui leggere eh è la frase che descrive le tesla del mondo antico le navi dei feaci eh automatos eh il primo significato del termine viene eh dalla sua natura composta la parola è formata da autos e matos e la la radice di matos viene da menoma eh eccetera volere eh poi impulso eh menos eh appunto eh il termine greco eh in origine sembra riferirsi unitamente alla persona umana che agisce di sua spontanea volontà e designerebbe in questo modo enti animati che siano dotati di mente eh ovvero agenti liberi e coscienti ciò che è spontaneo quindi è automa ciò che eh è causato da intenzionalità da libero arbitrio che non è soggetto a determinismo e il termine poi piano piano si estende da oggetti inanimati quando questi oggetti sembrano sembrano muoversi spontaneamente secondo una propria volontà anche alcuni eventi in quanto causali o accidentali sono chiamati in greco automatici poiché si producono da sé e lo confermono anche alcune forme greche eh derivate quali il verbo automatizzo eh oppure eh ciò che si produce da solo eh poi Aristotele con nella in in fisica 356 conferma questo senso e lavora sulla questione della del caso e della e della fortuna in questa disquisizione della fisica di Aristotele entrano ugualmente a autodeterminarsi in qualche modo a muoversi spontaneamente eh sia gli animali che gli esseri animati che gli esseri inanimati e quindi eh le navi dei feaci non ci meraviglia trovare queste navi dei feaci che eh intuiscono leggono il pensiero dei passeggeri e senza alcun bisogno senza alcun intervento dei nocchieri eh guidano eh navigano verso le mete desiderate quindi anche lì abbiamo degli oggetti dotati di di automatismo eh fin dall'antichità a un certo punto troviamo quegli automi parlanti eh cioè eh automi che assumono le sembianze simili all'umano e si cerca fin dall'antichità di dotare di queste di questi simulatri del dell'essere umano del più stratosferico degli artifici se lo vogliamo definire così lo ha definito così carlosini cioè il linguaggio eh la storia degli automi comincia quindi con l'aspirazione a generare eh la vita in esseri inanimati infondendo in essi la razionalità o il linguaggio tramite l'alchimia e la magia parlo dei golem parlo delle mandragore dei terapim quelle teste parlanti cui allude la Bibbia e che eh nella traduzione nella versione del settanta eh traduce quel termine terapim con Eidolon ed è proprio in riferimento a questi esseri magici a questi esseri magici parlanti eh che troviamo eh un'occorrenza eh nel milleseicentotventicinque nella apologia eh di è un'apologia scritta da Gabriele da Gabriele Nodè ehm per tutti i personaggi falsamente accusati di magia eh il termine androide androide non è frutto di stregoneria l'androide cioè questo personaggio simile umano che ha sensibilità umana e che parlante non è frutto di strengoleria avvertendo dei ma anzi di essenza sapendo bene che tali cose si possono fare per il mezzo di quella per mezzo di quella parte della magia naturale che dipende dalle matematiche quindi questi automi parlanti sono costruiti eh grazie a quella scienza matematica a quella matesis universalis che è l'ideale scientifico più importante dell'epoca quindi abbiamo una convergenza del termine automatos e del termine meccanè quando il il grado di complessità delle delle macchine eh cresce eh oggi un automa un comportamento automatico sono un'azione del tutto inconsapevole l'automatismo è un'attività sottoposta a un rigide determinismo causale che non lascia spazio né alla spontaneità né al semplice caso automato se un particolare cordigno o congegno che si muove da sé in virtù di un meccanismo interno delle parti che eh lo dispongono per tutta l'età moderna e fino al diciottesimo secolo abbiamo visto il film eh di eh tornatore incentrato ancora sulla sulla sull'automa di di Vaucanson eh il modello meccanico è un modello esplicativo estremamente forte eh è il modello esplicativo per eccellenza del cosmo della natura dei corpi viventi della stessa società come mostra in un bellissimo passaggio eh della teoria dei sentimenti morali eh Adam Smith ed è ovviamente un modello esplicativo di funzionamento e formazione delle lingue eh i traités sur la mécanique de langue sono innumeri eh innumeri e non si disdegna anzi il termine automa eh per l'anima e non è usato in questo senso da filosofi da nulla eh Spinoza e Leibniz eh danno del termine anima mente ricordiamolo sempre eh una definizione in termini in termini di automaton spirituale gli stessi articoli di eh eh androide eh automa dell'enciclopedia che sono scritti direttamente sono sono dovuti direttamente alla penna di Diderot e D'Alembert sono eh particolarmente illuminanti da questo punto di vista e sono tutti dedicati agli automi androidi e eh alla eh ad un altro automa di Bocanson che era un un animale capace di mangiare e digerire qualcosa talmente perfetto questo automa di Bocanson da simulare addirittura il processo di eh di digestione di digestione sono temi test in cui eh l'artificiale è il termine il termine chiave che tutto questo che riassume tutto questo discorso è ehm l'essenza della natura umana eh ed è ed è percepito ed è esaltato come la natura continuata con altri mezzi non ha nulla di di pauroso o nulla che eh o nulla che debba eh inquietarci no? Possiamo dire che antelitteram il discorso che Herbert Simon farà poi sulla eh sull'artificiale è già in luce in questi testi settecenteschi in che cosa quindi queste macchine come noi eh per parafrasare il titolo del romanzi di uno degli ultimi romanzi di McEwan eh perché dovrebbero dovrebbero farci paura perché dovrebbero essere un dovrebbero essere qualcosa che ci inquieta sembra anzi celebrare il trionfo dell'intelligenza e della tecnica essere il modello per spiegare non solo l'universo ma anche ma anche la vita nel breve due fenomeni eh si determinano diciamo in in questo in tra la fine del settecento e l'ottocento da un lato il processo di rivoluzione industriale con tutto quello che l'automazione comporta e quindi sono fenomeni di carattere sociale dall'altra una completa rifondazione delle scienze della vita che eh rende completamente desueto rispetto alla biologia ogni spiegazione di tipo meccanicistico eh e naturalmente eh in questo quadro eh diciamo le macchine cominciano a inquietare uno dei dei testi più più singolari eh che è quello è il romanzo del 1872 di questo strano personaggio così molto famoso per così muore la carne ma che è stato anche un allevatore di pecore in Nuova Zelanda cioè un nuovo avventuroso che è Samuel Butler nel romanzo Elewan eh nel Butler introduce tre lunghi capitoli eh li presenta come come spesso succede come traduzione di un di un testo eh ritrovato fortunosamente eh che si chiamano il libro delle macchine questi questi a cui seguono per inciso i capitoli riservati eh alla mh così al mh alla la rivendicazione dei diritti degli animali e dei diritti delle piante e in questo libro delle macchine in questi questi tre lunghi capitoli la sua osservazione che è interessante perché è fondata sulla teoria di Darwin è questa vi fu un tempo in cui la terra era completamente priva di vita animale vegetale se qualcuno quindi l'avesse potuto osservare e descrivere nel passaggio dallo stadio di sfera incandescente a quello in cui la crosta comincia a raffreddarsi eccetera eccetera avrebbe negato che esiste che esistesse in quella in quella sfera qualsiasi germe di coscienza eppure nel corso dei secoli dice Butler scrive Butler la coscienza apparve non è possibile allora che esistano nuovi canali attraverso i quali la coscienza possa arrivare a manifestarsi anche se di tali canali per il momento non riusciamo a scorgere la minima traccia e quindi su questa base sul fatto che se la coscienza è nata dall'evoluzione perché non potrebbero le macchine evolvere verso specie meccaniche coscienti e conclude nessuna delle macchine attuali mi fa paura ciò che mi spaventa invece è la straordinaria rapidità con la quale si stanno diventando qualcosa di molto diverso da quello che sono attualmente nessuna specie animale ha mai progredito in passato a un ritmo tanto veloce Sì Claudia dovresti avviarti alla conclusione il tema ritorna più e più volte nella letteratura ma questo lo saltiamo e quindi andiamo alla grande paura di non essere più padroni in casa nostra e questa paura delle macchine ritorna ad ondate per tutto il XIX secolo nel XX e fino veramente ai nostri anni e ogni volta e Schiller il premio Nobel per l'economia che racconta queste narrazioni sull'automazione sull'intelligenza artificiale si fanno sempre più ansiogene assumono proporzioni epidemiche sempre più vaste raggiungendo livelli mai raggiunti prima gli automi ovviamente sono sbarcati al cinema prima ancora del termine della commedia che battezza i robot abbiamo abbiamo grandi abbiamo una serie di film non per la vita memorabili poi il grandissimo metropoli di Lang e persino nella commedia brillante Desk Set con la coppia Spencer Tracy e Catherine Elburn assistiamo a una come dire a una scena a una storia d'amore insidiata dalla e di licenziamenti un lavoro insidiato dalle macchine e quindi diciamo una versione allegra e sofisticata come erano le commedie di allora di questa paura quello che diciamo ovviamente è venuto fuori e da queste da queste rappresentazioni così pervasive e così capaci di raggiungere un pubblico molto vasto e il fatto che le macchine rappresentano ormai il diciamo la paura di una singolarità minacciata ho fatto qui riferimento ad alcuni diciamo scrittori come Vinge al futurologo Kursweil ma Nick Bostrom o Fukuyama che insomma sono scrittori con diciamo sono anche filosofi con una qualche pretesa di o storici con una qualche pretesa di serietà sfuggire alle narrazioni sembra essere molto difficile dal punto di vista cognitivo ed emotivo e il 1742 quando Jung ci avverte che ci sono cause che producono una particolare inclinazione e da cui la massa sarà certamente afferrata e sarà governata in tutte le sue azioni è molto difficile sfuggire a questo tipo a questo tipo di a questo tipo di narrazione grazie grazie abbiamo proprio più tempo magari poi puoi tornare durante la discussione la parte più propriamente cognitiva che riguarda Simmel e diciamo la consiglienza come metodo di lavoro attraverso la narrazione come metodo di ricerca attraverso la narrazione grazie 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 mille Sara Ghislandi e Francesca Panzeri adesso se Claudia attiva la condivisione dello schermo grazie perfetto ok condivido qui abbiamo un titolo in inglese ma parlerete in italiano si based on a true story si università di Milano di Cocca ok arrivo se mi dice che non riesco vediamo cos'è no provo io no no adesso dai ti faccio la valletta ok ci siamo ok vado buongiorno a tutti anzitutto sono Sara Ghislandi sono laureata in scienze psicosociali della comunicazione e in questi minuti vi presenterò alcune riflessioni che sono nate durante la stesura della mia tesi di laurea appunto con la dottoressa Panzeri come relatrice allora per iniziare farei un cenno appunto alla cornice in cui si inserisce questo intervento e in particolare all'interesse degli autori per la verità nella letteratura contemporanea c'è un interesse per le forme di scrittura che hanno per oggetto personaggi, storie e tematiche reali questo non si riscontra solo nella narrativa ma anche nella produzione cinematografica infatti basti pensare ai film, alle serie tv il più grande successo degli ultimi anni e a quanti di questi fossero etichettati come tratto da una storia vera o basato su una storia vera a questo va e è aggiunto l'elemento anche del destinatario e di come anche l'atteggiamento ricettivo si sia modificato nel tempo viviamo in un mondo in cui siamo sempre più sensibili e attenti a trovare le informazioni vere e a non confonderle con le fake news viviamo in un mondo in cui grazie agli strumenti digitali abbiamo accesso in maniera immediata tantissime informazioni e quindi siamo sempre più curiosi vogliamo scoprire, vogliamo essere informati vogliamo capire qual è la verità dietro ogni notizia dietro ogni vicenda, dietro ogni personaggio e quindi anche sicuramente anche il destinatario del messaggio il lettore ha questo atteggiamento di grande curiosità per la verità la rivista di critica letteraria Allegoria ha dedicato un numero proprio al ritorno alla realtà che si registra nella narrativa e nel cinema e Donna Roma appunto nota l'aumento nella produzione di documentari reportage e testimonianze proprio a causa di questo interesse ne vedremo due modi in cui gli autori utilizzano la verità due dei modi in cui gli autori utilizzano la verità nelle loro opere la prima prospettiva è quando l'intento della narrazione è pedagogico cioè l'autore sta cercando di insegnare qualcosa al lettore sta cercando di consegnargli un contenuto di verità, un concetto e per farlo utilizza un intreccio tra verità e finzione quindi utilizza l'espediente del romanzo racconta i fatti piuttosto che semplicemente riportarli utilizza strategie retoriche, poetiche e fa questo perché è consapevole che con la narrazione può rendere il suo contenuto, il suo messaggio più accessibile, più coinvolgente e più interessante il primo autore che vediamo è Roberto Saviano e in particolare i suoi primi due romanzi quindi Gomorra che è un viaggio nel mondo della criminalità organizzata della Camorra e 000 che è un romanzo inchiesta incentrato sul tema del narcotraffico nei paesi del Sud America entrambi questi romanzi hanno avuto grandissimo successo sono state tratte anche delle serie televisive ma nonostante questo è nato comunque un dibattito in particolare sulla questione appunto del genere sono saggi, sono romanzi si è parlato di docu fiction, si è parlato di non fiction novel Wuming ha introdotto la definizione di oggetto narrativo non identificato proprio per riferirsi al fatto che Gomorra in particolare è il risultato di una forte contaminazione tra i generi cioè stiamo parlando in parte di giornalismo in parte di romanzo, in parte di saggio eccetera e perché questo? perché sicuramente l'esperienza del romanzo permette a Saviano di raccontare delle questioni molto difficili da esporre in un modo un po' più immediato per il suo pubblico quindi la sua strategia letteraria consiste proprio nel cercare una maggiore immediatezza e quindi per cercare di comunicare la verità Saviano utilizza e ricorre al romanzo come lui stesso afferma nelle sue, in alcune interviste ricorre a questo modo perché è l'unico con cui portare attenzione a un pubblico più ampio il secondo autore è invece Oscurati, Antonio Oscurati e i primi due romanzi di quella che poi sarà una trilogia ovvero M il figlio del secolo e M l'uomo della provvidenza che raccontano l'ascesa al potere di Mussolini quindi a partire dalla nascita dei facili combattimento l'evoluzione un po' del fascismo e in questo caso possiamo parlare di romanzo documentario quindi documentario perché come Scurati stesso afferma niente in questo romanzo è inventato nessun accadimento, nessun personaggio è inventato e c'è una forte base documentale infatti il lettore si ritrova all'inizio di ogni capitolo un stralcio di articolo, un telegramma, una lettera comunque una fonte storica, una fonte affidabile ma nonostante questa grande accuratezza storica è pur sempre un romanzo quindi si attiene alla storia ma Scurati costruisce una narrazione quindi inserisce dei dialoghi descrive delle scene dà voce anche ai pensieri dei personaggi quindi tutte cose che lui sta in qualche modo costruendo in questa narrazione e quindi crea un ibrido tra una verità storica e la finzione letteraria come per Saviano qui il fine è quindi pedagogico cioè sta cercando di insegnare qualcosa al suo pubblico e per farlo utilizza la forza della narrazione a causa del fatto che sono appunto narrazioni ibride hanno suscitato un po' di critiche quindi una breve parentesi sui dibattiti che hanno generato più o meno grandi, più o meno puntigliosi ma inscurati ci sono state critiche un po' anche contraddittorie perché da un lato si è parlato di un romanzo troppo poco romanzesco è quasi un libro di storia e dall'altro c'è chi invece è andato a ricercare delle inesattezze storiche o addirittura più che altro direi dei refusi invece per quanto riguarda Saviano le accuse sono state più ampie hanno coinvolto anche il panorama internazionale della critica e sono accuse di disonestà questo sicuramente va messo anche in relazione al fatto che Saviano è una figura ambivalente cioè è un giornalista e quindi si muove nel mondo delle notizie vere verificate, accertate ed è anche scrittore quindi anche questa ambivalenza sicuramente contribuisce a generare un certo dibattito sull'argomento e queste critiche sono interessanti perché un po' perché testimoniano questo interesse per la ricerca del confine tra verità e finzione che si percepisce e la difficoltà di questa operazione perché non si arriva poi mai a definire chiaramente un confine netto questo perché appunto gli autori hanno costruito degli equilibri molto molto vulnerabili, molto fragili perché il loro intento è riportare fatti veri ma rendendo la narrazione coinvolgente e quindi hanno dovuto unire questi due elementi passando alla seconda prospettiva invece capovolgiamo un po' la relazione romanzo-verità e abbiamo la verità che è lo strumento per rendere la narrazione coinvolgente quindi l'obiettivo in questo caso non è insegnare qualcosa in particolare ma è intrattenere quindi una letteratura di sbago diciamo e quindi la verità non è più la protagonista indiscussa e il fine dell'opera ma è uno strumento che permette all'autore di costruire una narrazione avvincente quindi è uno spunto, un punto di partenza un esempio è appunto la letteratura di Truman Capote in particolare A sangue freddo con cui nasce un po' il filone del non-fiction novel come lui appunto stesso afferma e il suo romanzo nasceva proprio da un episodio di cronaca nera da cui lui era rimasto affascinato e che lo aveva portato a scrivere questo romanzo molto avvincente ma comunque un romanzo di intrattenimento il primo autore è Carrère Emanuele Carrère uno scrittore francese che a partire dalla pubblicazione dell'Avversario nel 2000 scrive anche lui esclusivamente romanzi non-fiction o meglio non-fiction novel cioè utilizza fatti di cronaca principalmente per prendere spunto per le sue trame e intreccia anche episodi di vita personale vicende personali o confessioni molto anche intime quindi segue un po' l'esempio di Capote possiamo dire perché sta ad esempio nell'Avversario prende un episodio di cronaca nera che è avvenuto in Francia questa volta quindi un uomo che si era spacciato per medico e ricercatore dell'OMS per tutta la vita vivendo nella menzogna per tutta la vita e vicenda che finisce anche qua in pluriumicidio e che Carrère come Capote trova molto affascinante quindi decide di raccontarla proprio sul loro medico Capote ma modificando il tipo di narrazione che non è più impersonale ma che vede una forte presenza dell'io autobiografico infatti l'altro elemento di Carrère è quello di dover sempre raccontare qualcosa di sé e affidare qualcosa al lettore di suo quindi verità e onestà sono indispensabili lui stesso afferma che appunto deve essere onesto è il suo unico motivo di scrivere per far sì che il lettore si fidi di lui e quindi vediamo il primato della realtà sulla finzione il secondo caso invece è quello di Nikolai Linin e il suo libro Educazione Siberiana nello specifico che narra l'esperienza autobiografica appunto dell'autore all'interno della comunità criminale dei Yurka siberiani cioè una popolazione di criminali onesti in cui c'erano racconta di queste leggi non scritte sulla violenza la punizione severa della menzogna quindi crea una narrazione molto articolata raccontando di questa popolazione e il romanzo ha un grandissimo successo in particolare in Italia tra l'altro e ne viene anche tratto un film nel 2013 tutto questo però presto l'opera viene diciamo così è soggetta a molte critiche relativamente alla veridicità dei fatti perché in particolare incongruenze storiche nel senso che a quel tempo si deportava in Siberia e non dalla Siberia non ci sono molte giornaliste russe che si sono recate a vender cioè la città dei presunti avvenimenti e nessuno degli abitanti di questa città era a conoscenza di Yurka quindi una serie di incongruenze ma al di là di questo quello che a noi interessa è che questa vicenda racconta un po' l'interesse la tendenza a preferire ciò che è tratto da una storia vera e dall'altro il fatto che il successo di tutto questo libro si basava sul fatto che i fatti fossero veri probabilmente se non fossero stati veri non avrebbero avuto così tanto successo quindi dopo aver visto questi due nodi la narrazione funzionale al racconto della verità e la verità come spunto per scrivere una narrazione invece avvincente vediamo un caso una voce un po' dissonante un bonus che è Michael Chabon e il romanzo Segnando la luna questo romanzo è scritto in forma di memoir è un romanzo biografico ci sono Lionarrante è un autore francese di nome Michael Chabon nell'incipit lui dice ecco come l'hanno raccontata a me inserisce delle note a pie pagine in cui narra di avvenimenti accaduti dopo alla stesura del libro quindi tutto questo puzzle ci fa credere che sia effettivamente la biografia del suo nonno materno finché nella lettura nella lettura nei ringraziamenti si legge lui stesso dice definisce il libro come un cumulo di bugie e quindi nasce un po' il dubbio anche nei media così il dibattito cosa c'è di vero poi in questo romanzo Shevon dirà che il romanzo dire romanzo per lui vuol dire dire cumulo di bugie e che se ha parlato di biografia all'interno dei confini del romanzo allora anche quella poteva essere considerata una bugia quindi quello che sta facendo è giocare sostanzialmente con la verità cioè incastrare fatti veri, storici con episodi molto verosimili costruendo una narrazione che convince il lettore che sia vera perché si prende gioco del suo istinto a ricercare i fatti veri e a preferire i fatti veri e quindi sta un po' sfidando questa supremazia dei fatti Shevon infatti al contrario di Carrer vede il valore della finzione sopra quello della verità quindi il romanzo è una bugia il lettore sa che è una bugia e nonostante questo ne è persuaso perché il romanzo è l'unico tipo di bugia buona che l'autore dice non solo con il suo permesso ma su suo invito grazie mi viene in mente questa formula di Andy Warhol che dice non sono stato mai appassionato di realtà che mi pare cioè vabbè poi dopo al dibattito ne parleremo comunque mi pare in linea con questa i fatti sono noiosi sono monotoni grazie chiudiamo la sessione con Alice Guardieri il titolo del suo intervento è la forza visionaria delle narrazioni artistiche in Sardegna parla di un'artista che amo moltissimo che è Maria Lai tra l'altro l'ho scoperto poco almeno spero ecco visto dall'altro sì sì no è vero è vero è vero allora buonasera a tutti presentazione si vede credo sì allora bene abbiamo già discusso durante questa sessione parallela nella prima sessione parallela della funzione delle storie della funzione delle narrazioni naturalmente le narrazioni ci rappresentano e quello che di cui vorrei parlare non riguarda tanto l'aspetto dell'intrattenimento legato alla narrazione ma l'aspetto del fatto che le narrazioni veicolano significato veicolano valori e comportamenti pensiamo alle narrazioni mitologiche alla loro capacità di veicolare significati dall'oralità fino ai giorni nostri e questo questi aspetti insomma questo aspetto legato alle narrazioni alla valenza delle narrazioni nello specifico le narrazioni dell'identità sono a mio avviso molto significative nell'arte sard nello specifico appunto nell'arte di Maria Lai che è una delle artiste più rappresentative anche a livello nazionale ma anche a livello internazionale un elemento che vorrei analizzare insomma nell'arte di Maria Lai è la funzione delle immagini quindi la componente visiva che emerge dalla sua arte naturalmente ecco con una breve un breve inquadramento teorico sulla sulla componente visiva che se vogliamo quindi è un tema di cui i filosofi si sono occupati fin dall'antichità pensiamo anche il mito della caverna di Platone che pur negando che pur criticando tutto sommato il fatto che gli uomini si lasciassero diciamo un po' travolgere dalle immagini e si allontanassero dal mondo delle idee dal mondo della verità questo in effetti è una potente riformulazione della forza delle immagini cioè se le immagini hanno la capacità di influire nel pensiero nel comportamento ebbene questo è un aspetto che in effetti è molto interessante si ritrova nell'arte di Maria Lai ma anche Aristotele vogliamo ancora continuare con un altro riferimento nella poetica aveva sottolineato l'importanza delle immagini e soprattutto nella retorica aveva sottolineato nel momento in cui aveva parlato delle metafore per analogia proprio la forza delle metafore quindi del linguaggio in questo caso del linguaggio metaforico di porre le cose davanti agli occhi e quindi la loro energieia il loro vigore retorico quindi questo aspetto che è legato al linguaggio e poi ovviamente il dibattito sulle immagini è un dibattito che insomma molto discusso su questo conflitto insomma tra il linguaggio e il visivo di cui non possiamo insomma approfondire gli aspetti ma prenderemo in considerazione la teoria dell'arte iconico di Predecamp che è un esponente della scienza dell'immagine quindi il discorso relativo all'atti iconico a mio avviso si può insomma collegare e l'ho riprovato insomma alcuni aspetti dell'arte di Maria Lara ecco Predecamp aveva ripreso alcuni aspetti degli atti linguistici della formulazione di John Austin quindi nello specifico il carattere di performatività quindi il fatto che la parola quello in riferimento all'atto linguistico la parola avesse una funzione nell'ambito delle azioni questo aspetto questa questa forza si ritrova secondo Predecamp anche con riferimento alle immagini quindi l'arte iconico che cos'era? L'arte iconico era quella quella forza intrinseca che le immagini avevano di balzare di di avere una sorta di di influire tutto sommato nell'osservatore quindi nella fruizione dell'immagine naturalmente non è solo riferita all'opera d'arte perché ci sono appunto anche le fotografie gli audio video insomma hanno questa forte capacità di influire insomma in chi guarda in chi tocca in chi ascolta e questo a mio avviso è particolarmente vivente nell'arte di Maria Lai la formulazione dell'atto iconico si presenta in tre vesti l'atto iconico schematico in cui si osserva la vitalità delle immagini quindi la vitalità anche con riferimento a quanto abbiamo detto prima a quanto ho sentito le relazioni degli automi o dei tablo di van quindi le immagini vive o delle performance anche di alcuni artisti contemporanei oppure l'atto iconico sostitutivo in cui si osserva una scambiabilità di immagine corpo cioè un'immagine che può essere anche come può essere distrutta alla pari di un corpo pensiamo all'iconoclastia anche contemporanea oppure l'atto iconico diciamo madre insomma quello più rappresentativo l'atto iconico intrinseco in cui si può si può instaurare una sorta di dichiasmo degli sguardi quindi una sorta di reciprocità del vedere e anche questo è un aspetto di cui parleremo nell'atto di Maria Lai prenderemo in considerazione due opere una si chiama Tenendo per mano l'ombra e l'altra è Legarsi alla montagna Tenendo per mano l'ombra è una fiaba cucita quindi una diciamo un'opera che è fatta di fili che è fatta di tessiture e questa componente della tessitura è una componente che caratterizza l'arte in Sardegna e l'arte di Maria Lai soprattutto perché è legata alla materialità è legata in effetti l'idea del filo metodimia ma anche metafora e in Maria Lai rappresenta insomma ha una grande simbologia rappresenta il filo delle storie la trama della vita anche il filo il filo dell'arte ecco ma nello specifico Tenendo per mano l'ombra è una narrazione in cui si racconta in un libro proprio materialmente che si può toccare il viaggio dell'esistenza metaforicamente parlando il viaggio della vita quindi parlando nei termini della metafora concettuale la vita è un viaggio quindi si racconta in queste immagini riproduzione della versione su carta di Tenendo per mano l'ombra quindi è la storia come diceva Maria Lai stessa di un cucciolo di uomo che si affacciava alla vita e quindi questa è una metafora dell'esistenza il viaggio di questo di questo rettangolo di stoffa si racconta la vita quindi nell'incontro con l'altro l'incontro con se stesso lo scontro con l'ignoto con le paure ovviamente queste sono rappresentazioni che si possono intendere in senso metaforico e tenendo per mano l'ombra quindi c'è tra l'altro questo qui non si vede ma c'è proprio la cucitura quindi c'è anche la parte testuale ovviamente tenendo per mano l'ombra anche questa è una rappresentazione metaforica tenendo per mano l'ombra si rappresenta il fatto che questa figura insomma questo protagonista quindi l'uomo stesso nel suo percorso di vita deve tenere anche in mano l'ombra quindi deve anche essere consapevole delle proprie fragilità delle proprie paure quindi nonostante tutto compiere il suo viaggio il suo percorso di vita quindi se potessimo fare insomma una riflessione legata alla tua icono con mio avviso in questa fiaba cucita si osserva è proprio una una forza intrinseca a mio avviso di questa di quest'opera che emerge intanto nella tattilità perché si può toccare la si può osservare e ci si può anche quasi medesimare in questa narrazione cioè ha un suo significato un suo valore anche perché è una rappresentazione architipica insomma dell'esistenza e quindi può veicolare dei significati poi addirittura si potrebbe non lo so in queste come le avrebbe dette Bredekamp opere occhieggianti quasi in queste queste figurine che ci osservano il chiasmo degli sguardi quindi anche un atto tonico intrinseco insomma e quindi proseguendo con l'analisi di un'altra opera significativa affrontiamo Legarsi alla Montagna Legarsi alla Montagna è una un'opera che si che si inserisce nella cosiddetta arte relazionale quindi un'opera che nasce e si sviluppa nel 1981 a Dulassai in Sardegna il paese natale di Maria Lai ecco in quel periodo insomma Maria Lai aveva osservato delle problematiche nel suo nel suo paese insomma problematiche relazionali appunto problematiche di comunicazione perché la popolazione insomma della sua cittadina non non riusciva insomma più a comunicare c'erano delle problematiche degli antichi rancori e allora si fa in qualche maniera portavoce di questa di questo voler ricostruire appunto metaforicamente parlando il tessuto ecco di relazioni e di umanità facendo riferimento quindi attuando una performance con la collaborazione degli abitanti stessi e facendo leva anche sulla sulla narrazione sull'antica narrazione quindi qui il valore insomma delle narrazioni dell'identità dell'immaginario ecco la narrazione era riguardava un'antica leggenda di una bambina che di Ula Sai una leggenda che si tramandava di generazione in generazione una bambina che si era salvata dalla furia della montagna perché aveva tenuto in mano un nastro azzurro quindi vedendo volare questo nastro si era l'aveva inseguito e si era salvata ebbene questa narrazione diventa diciamo un appunto di riferimento per Maria Lai anche perché diciamo tiene legate le persone perché in quel periodo appunto negli anni in cui Maria Lai vuole realizzare questa performance forse l'unica cosa che tiene unite le persone è proprio appunto questa narrazione e quindi l'arte questa performance diventa tutto formato una una performance diciamo edificante in cui anche il ruolo del linguaggio ha una sua specificità quindi il linguaggio diventa assume una funzione quasi diciamo cooperativa perché Maria Lai deve negoziare il significato di questa performance con gli abitanti del luogo abitanti anziani bambini giovani insomma tutti collaborano per la creazione di questa di questa performance e quindi viene costruito insomma un mega nastro di 27 chilometri in nastro azzurro e qui c'è anche tutta la simologia legata al colore che rappresenta il colore del cielo il colore della speranza l'arte stessa insomma che salva ecco c'è questa idea sempre un po' salvifica insomma dell'arte che Maria Lai ha voluto veicolare e quindi si fanno tutti gli abitanti prendono i lembi di questo di questo nastro e se lo fanno passare intorno alle case e quindi queste case vengono non solo metaforicamente legate le une con le altre ma proprio realmente ogni ogni abitante deve poi anche qui la funzione del linguaggio proprio dalla parola nel senso che devono proprio parlare materialmente per tenere in mano questi fili e legare tutto e legare se stessi cioè se stessi insomma simbolicamente di nuovo una nuova relazione con il proprio paese con la propria identità e la fase la fase finale è quella di legarsi alla montagna quindi vengono anche contattati insomma degli scalatori per cui questo nastro poi in pratica tutto il paese viene legato e questa è una performance naturalmente che si è tramandata insomma per la sua importante se volessimo parlare nei termini dell'atto iconico intanto la stessa performance e la sua vitalità come le sculture viventi di Gilbert e George cioè sono gli stessi protagonisti ne sono soggetto e oggetto dell'opera in pratica dell'opera d'arte sono loro i protagonisti che fanno l'opera quindi potremmo osservare un atto iconico schematico ma anche nella riproduzione fotografica che possiamo osservare nelle foto di Berendu anche nelle riproduzioni che sono state fatte contestualmente la performance delle riproduzioni audio video è anche un chiasmo degli sguardi quindi un atto iconico intrinseco perché sono comunque sia ancora oggi a distanza insomma di quarant'anni delle esperienze che veicolano ancora significato che creano in medesimazione sono in grado anche se stiamo insomma all'oggi pandemico anche voglio dire possono essere edificanti per diciamo rinnovare magari una nuova performance perché no di creare i tiri che insomma sono performance utili per ricostruire il tessuto sociale in conclusione abbiamo osservato appunto il potere della narrazione il potere delle narrazioni dell'identità e la capacità dell'arte di Maria Lai appunto accettando Silvano Tagliagambe l'immaginazione interattiva di Maria Lai quindi quella creatività che era data dalle relazioni appunto dalle relazioni del singolo e soprattutto nell'ambito della comunità vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie moltissimo io per insomma però per un po' il ghiaccio prima delle domande ricordo che ho lavorato proprio su questo caso studio di recente quindi mi ha fatto molto piacere vederlo analizzato e c'è questa cosa che mi ha molto colpito del fatto che lei la Maria Lai aveva ricevuto una committenza dal sindaco dall'amministrazione locale per un monumento ai caduti io voglio fare un monumento ai vivi la mia opera deve essere non è la mia opera ma è l'opera dei cittadini di Ulassai deve essere qualcosa fatto dai vivi perché resti alla memoria tra l'altro come dicevi tu giustamente trasformatrice dei comportamenti ed è vero ha questa forza l'arte quando è arte di riuscire a trasformare le relazioni fra le persone Maria Lai secondo me resta una figura emblematica dell'arte del novecento perché ha saputo veramente cogliere poi c'è questa cosa che dici molto giusta del filo che è il filo ogni storia di pana un filo però in questo caso che mi piace molto cioè in un convegno sul racconto questo mi sembra un esempio perfetto anche per allontanarci dall'idea che il racconto sia solo linguistico questo è un bellissimo esempio che dimostra che ci sono racconti visivi e che l'arte che non è più fatta da singole persone ma è un'arte come si dice partecipata sa fare benissimo narrazione e narrazione e narratività nel senso che noi diamo alla narratività noi semiologi di trasformazione di azione di passioni che poi arriva ad Aristotele quindi diciamo ci vuole la trasformazione nel racconto ci sono domande sugli interventi ma io avevo una curiosità verso Sara Ghislandi che volevo chiederti se sei per caso incappata nel caso di Teresa Ciabatti che con il libro La più amata che ha vinto il premio strega nel 2017 ha creato un polverone intorno a una storia che sembrava un'autofiction che sembrava vera e poi in realtà non lo è e lei l'ha fatto in maniera abbastanza consapevole questo le ha creato dei problemi sociali quindi c'è stata una ricaduta nella vita dell'autrice a partire dalla sua scelta su questo romanzo e quindi potrebbe essere uno spunto interessante ecco sì non lo conoscevo quindi direi che è un ottimo spunto grazie se non ci sono domande volevo solo condividere una riflessione riguardo all'ultimo intervento di Alice Guerrieri perché appunto l'ho sentita a un certo punto nominare la questione delle metafore concettuali no e però in un certo senso sono rimasta un po' stupita perché poi forse un po' immerso non so quanto consapevolmente no in questa opera legarsi alla montagna quando legarsi in sé per sé appunto noi tendiamo a usarlo in senso metaforico no quindi sono molto legato a te quindi ci tengo legato affettivamente e così via mentre in questo caso è come se appunto cioè non è come se di fatto l'opera consiste invece in un ritorno appunto al significato letterale di legarsi che starebbe poi alla base di quello metaforico no e quindi anche poi forse potrebbe essere quello diventa un po' più complicato cioè quindi siccome io invece non sono semiologa non intendo di arte né niente per cui magari sto dicendo una serie di bestialità in caso mi scuso se ci possa essere anche questo tipo di intento cioè fare esperire diciamo il significato letterale di legarsi in maniera pratica quindi tramite un filo vero e proprio poi anche il filo della narrazione e così via per poi anche dare maggiormente senso a quella che è la concettualizzazione metaforica di legarsi come trovare affetto e così allora io intanto per non ci avevo pensato ma avevo la metafora concettuale più che altro ho pensato all'altra opera quindi sì no la vita è un viaggio appunto quello mi ricordo perché poi insomma ma questo scusami non sarebbe una metafora concettuale legarsi però appunto per me è stato lo spunto perché ovviamente la vita è un viaggio per la Cof e Johnson è concettuale perché sono due domini molto ricchi che permettono invece legarsi a qualcosa no non sarebbe una metafora concettuale però appunto in generale per me è stato lo spunto in quel senso però appunto quella che noi usiamo non so se sia quasi una cattacresi però appunto è un significato che forse è preponderante nel nostro uso sono molto legato perché essere legato è difficile che venga inteso in senso letterale invece in questo modo è proprio una farlo letteralmente con un filo di 37 chilometri in effetti nell'arte di Maria Lai alle volte si può considerare senza poi tanti riferimenti alle varie insomma teorie è già di metafora la sua stessa arte quindi alle volte già nell'analisi dei vari insomma delle varie opere emergono già tante metafore creative e comunque legarsi alla montagna in effetti c'era qualcosa che ha identificato identitario che doveva essere veicolato perché appunto per ricostruire questo tessuto sociale questa esperienza serviva agli abitanti per legarsi tra di loro e legarsi anche a questa a questa montagna che incombeva ma che però come tutte le montagne come il Fujiyama sempre che ha affascinato sempre i pittori rappresentava un po' come il sublime quindi qualcosa di poi paura ma mi sei affascinato e travolto quindi l'idea era anche quella di poi non so come abbiano fatto a legare questa montagna perché sembra un'operazione veramente mitologica vedendo un po' il dispacimento dei punti delle cose insomma attuali non so come abbiano fatto ma comunque veramente esperienza incredibile se posso intervenire Tiziana su questo perché proprio oggi stavo la cosa che ha detto Francesca Panzeri si è connessa con una cosa che stavo leggendo oggi di un testo di Lothman e Gasparov che si titola Retorica del non verbale e parlavano proprio del titolo dei quadri dunque e dicevano molto spesso l'effetto retorico è dato dal contrasto fra l'opera e il titolo noi parlavamo di Guernica Guernica non sarebbe quello che è se non si chiamasse Guernica e dunque non instaurasse una tensione a una lettura dell'opera allora mi viene in mente che qui chiaramente vale lo stesso in realtà vale quasi sempre con tutte le opere d'arte ma questo Tiziana può dire meglio di me però mi sembra interessante che qui forse il titolo rende retorico il letterale cioè rende artistico il letterale nel senso che ci porta a percepire come potentemente significativo un il gesto apparentemente il letterale di legare cioè è in questa tensione per cui il titolo riporta dentro il campo della della retoricità e dunque della produzione di un senso inatteso di un senso mancante di un senso che è in disfacimento che è perduto cioè per esempio quello anche di ritrovare una connessione con il proprio ambiente per esempio di non emigrare oppure di non maltrattare l'ambiente abbiamo visto alcune immagini del tipico la tipica estetica che non è solo sarda ma in Sardegna insomma ha un'ottima esemplificazione c'è di case non finite col blocchetto a vista che sono un pugno nell'occhio rispetto invece alla potenza sublime come diceva dice della montagna con la sua invece dimensione diciamo così anche temporale di finitezza nel senso di perfezione allora secondo me forse ma questa è una cosa suscitata un po' dalla relazione un po' da queste letture un po' dal tuo intervento forse lei sta anche ridando valore anche a quello che a noi appare letterale c'è la metafora in questo ribaltamento di piani forse veniva in mente Bachelard l'immaginazione materiale quando per esempio Bachelard definisce Atlante roccia di fardelli e spalle cioè ed effettivamente c'è questo processo di traslitterazione è in effetti una metafora concettuale si può dire perché in quel montagna quel montagna è ricchissimo di tutta una accezione che noi abbiamo del valore della montagna e soprattutto i cittadini di Ulassari e i Sardi in particolare che è molto legata alla corporeità e quindi sì secondo me questa questa riflessione sulla metafora concettuale ci sta nella nel senso di un'immaginazione materiale che scatena alla Bachelard posso riagganciarvi a quanto diceva Francisco che appunto secondo me appunto è un ritorno cioè perché per tutto non è concettuale questa metafora nei termini di Lacoffe e Johnson perché è piccola no quelle concettuali sono quelle in cui due domini target e origine sono sono molto ampi non è che si possa andare avanti più di tanto però c'è secondo me un po' alla base l'idea che le metafore servono cognitivamente per in un certo senso riportare l'ignoto l'astratto a qualcosa di conosciuto no per cui appunto mi trovo di fronte un fenomeno un virus che non vedo invisibile che lo chiamo nemico e dico che attacca le cellule riesco a riportarlo a qualche cosa di più noto e a comprenderlo possiamo immaginare che legarsi affettivamente a qualcuno che in un certo senso è qualcosa di astratto venga inizialmente inizialmente spiegato riportandola a qualcosa di concreto cioè come legare tramite un filo solo che poi dopo un po' per quello dicevo è quasi una catacresi come il collo della bottiglia i piedi del tavolo a un certo punto ci si dimentica di questo suo significato originario e così via e forse si dà per scontato e quindi diventa sono sì sì sono legato però appunto un gesto che riporta a quello originale e che quindi ci dà più più senso cioè un ritornare nel senso originario nel momento in cui lo lo faccio tornare a quello letterale per cui però appunto tante volte anche appunto che era stato citato prima il filo della narrazione e così via tutte queste sono originariamente nascono in maniera metaforica però dopo ne perdiamo il senso metaforico originario per cui il filo della narrazione per noi è quella roba lì abbiamo perso il legame con il filo originario e quindi magari rimetterlo nuovamente in luce in quella sua accezione ci aiuta per di nuovo nuovamente tornare a illuminare delle cose che magari diamo per scontata ecco tra l'altro mi pare che Maria Lai dicesse di Ula Sai che era la metafora del mondo quindi la fragilità del mondo era tutta evidentemente aveva riscontratta tutta nel suo paese natale insomma quindi io avevo una curiosità per chi ha lavorato sulla questione dell'automa cioè perché allora ci sono ci sarebbero due modi di pensare l'automa uno è come come se fosse un'entità sestante però per esempio noi parliamo spesso di comportamenti automatici allora la la riflessione sul comportamento automatico fa diventare improvvisamente nostra proprietà che sembrano di quest'automa come se fosse un'entità a sé e allora questa cosa dei comportamenti che anche l'uomo in qualche modo è in alcuni momenti soprattutto pensiamo a rapporto con l'abitudine con le norme adesso per esempio che siamo stati costretti alla distanza come degli automi tendevamo la destra per salutare l'altro oppure per abbracciarlo no e poi dopo tornavamo indietro cioè se ci fosse la possibilità di pensare l'automa non più come soltanto un'entità separata dall'umano ma sempre l'idea diciamo lotmaniana di lotman di concatenazione di azioni come comunque qualcosa che in qualche modo certe volte l'umano incorpora attraverso i suoi comportamenti se sono io che devo rispondere secondo me ci sono due linee una è quella per cui l'automa è il modello esplicativo anche dell'uomo questa questione dei comportamenti automatici la trovi nell'home di Descartes se tu leggi la parte in cui parla dei comportamenti automatici ti rendi conto che appunto è esattamente quello che dici tu è il doppio livello del corpo che si muove secondo il modello meccanico e là ci sono anche comportamenti che fa che normalmente sono oggetto di riflessione che invece in certe situazioni avvengono senza pensare senza essere coscienti quindi da un lato l'automa prende questo spazio di riflessione e non non fa paura è un è un modello positivo perché è un modello esplicativo quando si tratta di scegliere diciamo di scegliere però qualcosa che ci fa paura e a un certo punto improvvisamente quello che mi colpisce è che queste queste narrazioni cambiano completamente segno diventano il segno del ciò che ci esproprierà dell'ultimo dell'ultima dell'ultimo diciamo come dire di ciò che ci rimane di singolarità di specialità all'interno della minaccia alla nostra singolarità quindi da un lato c'è questa parabola delle narrazioni d'automa dall'altra però tutta questa questione delle narrazioni io la la vedevo attraverso attraverso Simmel e tutto quello che poi si è mosso a partire da Simmel intorno a questa cosa proprio sulla necessità che una parte di narrazione e quindi di modello narrativo venga incorporato dalle scienze umane e sociali e come viene incorporato dalle scienze umane e sociali quello è il problema no? non so chi oggi ha parlato della sì che la collega che parlava dei romanzi a un certo punto il diciamo quando noi facciamo un racconto di storia lo storico che narra si crea ipotizza un carattere e narra c'è una parte narrativa nell'opera nell'opera storica in cui c'è proprio la creazione c'è la creazione del carattere esattamente come fa come fa un romanziere no? Eden White che distingue tra la cronaca e la storia lo storico è uno che che narra questo modello narrativo è diventato oramai estremamente importante e pervasivo anche perché il modello narrativo è sempre sul crinale della della diciamo della condivisione soprattutto le scritture digitali quello che è oggi il mondo delle scritture digitali eccetera della condivisione e quindi della ricreazione della falsificazione della creazione di modelli pandemici se tu se prendiamo una cosa come l'economia l'economia è fatta evidentemente di narrazioni le narrazioni vere o false che siano spostano tonnellate di ricche di denaro e di ricchezza e sono particolarmente importanti cioè non c'è oggi secondo me la possibilità di diciamo di fare un discorso scientifico in economia che non debba tenere conto di queste narrazioni ci sono molti molti scienziati dell'economia che hanno preso proprio in in considerazione il modo in cui le narrazioni e quelle sugli automi sono alcune delle narrazioni possibili hanno spostato l'asse economico mondiale nell'ultimo nell'ultimo secolo e quindi trovo che questa questione sia particolarmente interessante perché proprio rompe il crinale della scienza che si occupa solo di fatti e della letteratura che fa solo narrazioni ecco dicere del bellissimo libro che sono le sei passeggiate che le narrazioni vengono in soccorso dalla nostra pochezza metafisica e secondo me è una cifra bellissima dell'eredità di eco quello di averci mostrato questa radice narrativa della filosofia della scienza e di certe spiegazioni scientifiche soprattutto nell'ambito delle scienze umane va bene mi taccio scusate mi sono fatta prendere dalla passione narrativa per l'appunto scusate se posso aggiungere una cosa rapidissimo dal mio punto di vista è interessante nella narrazione della migliore offerta questa cosa dell'automa che viene agito dall'esterno del suo modo di agire della sua o meno consapevolezza è estremamente interessante e si ricollega al dubbio cartesiano e a quello di cui parlava prima perché il protagonista è proprio in difficoltà nell'essere consapevole di ciò che fa e il suo dubbio nasce dall'essere vittima di una cospirazione che di fatto è completamente costruita su di lui e questo secondo me è molto vicino da un lato alla percezione che abbiamo spesso io lavoro nel marketing quindi la percezione che spesso sono i consumatori da un punto di vista proprio di essere controllati dall'esterno dagli input che ricevono dal marketing esperienziale piuttosto che dalle pubblicità ad persona dalla gestione dei dati personali dall'altra parte è una di quelle domande che non trovano risposte nello sviluppo dell'intelligenza artificiale cioè dove la mia intelligenza artificiale inizia veramente ad essere intelligente e dove invece no è vero che c'è il test di touring che ci sono tutta una serie di parametri che ci siamo dati nel corso del tempo per fare queste valutazioni ma ancora questo confine tra la vera intelligenza e l'intelligenza artificiale è molto indolabile e contemporaneamente abbiamo dei dubbi su noi stessi e quindi mi trovo molto interessante nella contemporaneità esplorare questa sfumatura e in qualche modo riconoscerla molto semplicemente sì sì gli eccessi no gli eccessi della dell'automazione chiaro però è un problema politico posso dire una cosa restando appunto all'immaginario come laboratorio credo che anche Claudia stessi intendendo questo come laboratorio delle nostre risposte anche a questioni etiche e metafisiche che non sapremo rispondere altrimenti viene da pensare al passaggio dalla grande fantascienza di Asimov e dunque l'automax a un certo punto si pone il problema sulle regole cioè alle famose tre regole della robotica e deve capire come gestire il dubbio rispetto al da farsi davanti a ai paradossi che la realtà li mette davanti penso invece faccio un edissi chiaramente un salto alle serie tv contemporanee secondo me fra le più belle come Westworld oppure come Humans e non è più un problema di di cognizione cioè non è più un fatto di volontà di intenzionalità in in Westworld viene tematizzato il tema dell'imprevedibilità cioè di dar corso azioni che che non sono che non sono già programmate che non sono già previste e addirittura invece in Humans il problema è che l'automa sfonda diciamo la barriera fra lui e noi nel momento in cui sente se stesso sentire cioè nel momento in cui riconosce di sentire qualcosa per cui mi pare che diciamo la cultura di massa diciamo si è spostata dal ha spostato il confine fra noi e loro dalla cognizione su cui forse siamo convinti che arriveranno anzi forse ragionano già più velocemente di noi invece al tema della del saper agire fuori dalla prevedibilità e sapere agire sentendo diciamo avendo una sorta di loop di feedback del proprio stesso sentimento proprio stesso sentimento su questo chiudo con un elemento che non vi spoiler la prima stagione di Westworld in cui alla fine l'automa agisce in modo imprevisto ma i sceneggiatori ci lasciano il dubbio che questa azione imprevedibile sia stata programmata a sua volta d'altra parte guarda una delle cose più belle che siano state dette sugli automi è quella di Fontanelle quando dice va bene abbiamo esplorato tutte le versioni del meccanicismo però oggi siamo dinanzi a questo fatto mettete vicino un gallo o una gallina e nasce un cucino mettete vicino due orologi non nascerà un orologino e secondo me la critica da questo lato da questo lato lì ti vengono dietro e si entusiasmano e fanno cose e fanno cose buone devo dire che due testi nella mia ormai lunghissima esperienza didattica hanno funzionato benissimo con gli studenti uno è la mini semantica di De Mauro e l'altra sono le sei passeggiate dei boschi rarrettivi di Eco che hanno diciamo suscitato veramente una non solo una passione ma anche una comprensione profonda da parte degli studenti quindi la narratività funziona a lezione e leggiamo dire la noccia che ci coglie quando tentiamo di dire qualcosa di vero sul mondo reale che è perfettamente in tema con anche l'intervento sul rapporto fra benità e finzione che comunque il vero va sempre è sempre comunque costruito e quindi abbiamo sempre effetti di realtà per fortuna ecco se lo diciamo nel senso di Eco per fortuna sì senza altro io mi scuso ma devo assentarmi volevo solo dire ad Alice Guerrieri che non so se sei mai stata a Olassai ma c'è una cosa interessante potrebbe essere una cavolata quindi io te la butto lì però la cosa interessante è che Olassai è un po' una mecca anche per chi arrampica che fisicamente si lega alla montagna quindi non so se ti può essere un interesse verso questa cosa però mi ha colpito insomma lo so che ci sono dei temerari che scalano con il montagna o anche non lo so se anche i tattili dell'Oliastra comunque sì sì corrente la pista di arrampicata oliastrina è più più famosa è anche una delle più famose al mondo si chiama selvaggio blu per cui torna torna il colore però lì credo che sia riferito torna tutto credo che sia riferito al mare però più che al nastro però torna diciamo grazie grazie di tutto grazie ciao arrivederci credo di no adesso scrivo a Francesca non so noi chiaramente siamo liberi di finire prima non ci lega sì saluto anch'io volevo ringraziare anche tutti per gli interventi e ma devo scappare anch'io grazie arrivederci 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 grazie grazie arrivederci Francesca mi scrive che anche loro stanno finendo sono anche finiti nel senso sono stremati tra l'altro vedo che Tiziana la nostra coordinatrice è scomparsa anche io prima ho avuto un problema di connessione per un attimo sono scomparso dunque prendo io il ruolo diciamo di così di coordinatore mentre Tiziana eventualmente ritorna però se non ci sono altri interventi ci salutiamo e chiaramente il 4 giugno ci ritroviamo? sì ci ritroviamo il 4 sì adesso vi manderemo il link apposito e poi faremo il 21 22 invece diciamo il momento con i keynote speaker che fa un po' da conclusione quello che avremmo voluto fare almeno quella parte in presenza invece insomma lo dovremmo fare online comunque speriamo per l'anno prossimo speriamo speriamo di essere diciamo di essere alla fine finalmente vivi esatto esatto e non automatici esatto prima di automatizzarci troppo davanti io ormai credo che sono io un'estensione del computer non non incontrare vi stiamo aspettando nell'altra stanza per salutarvi ah credo c'è da mangiare no non niente da mangiare ma solo per i saluti ok ok allora grazie Tiziana grazie a voi grazie a tutti però non c'è più la possibilità di spostarsi no lasciando la stanza lascia scala gruppi sotto dove c'è scritto lascia stanza lascia sessione va bene no non lascia riusciare